devo studiare un'altra metafora durante la puntata siamo già online ciao ragazzi ciao live non ho cambiato io volevo streamare Space Marine mi sono dimenticato di cambiare il cazzo in culo qua volevo streamare Space Marine solo che il programma OBS non me lo non me lo vedevo come va blaisimo non perché mi faccio queste domande che possono portare no va bene che possono portare come va bene e poi si no no vabbè però è è grossa come la television c'è una roba io ce l'ho buttata laggiù quindi non ce l'ho davanti però è grossa mamma mia e no la cosa la cosa principale da farsi era verificare che funzionasse la roba della 4 quindi ho messo persona ho ho fatto ho fatto tutto il cloud ho fatto tutto faccio partire e trovavo un salvataggio che mancavano tipo 5 ore no rispetto a dove eri arrivato io che era praticamente il 40% tipo ho fatto no ciao 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 sei riuscito poi recuperato si 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 perché mancava un aggiornamento che non mi permetteva di far l'up l'up come si cazzo si dice l'upload su insomma alla fine ce l'ho fatta e l'ho provata un'oretta su e cazzo è perfetta c'ho c'ho la retrocompatibilità anzi anche se forse il caricamento iniziale specialmente è un pochino più lungo ah si dovrebbe essere più corto è però può essere che è un'impressione ma va dato questa impressione la playstation 5 che è la la feature principale è l'hard disk spaziale eh si però con un gioco della 4 magari non è altrimenti no no dovrebbe comunque essere più più veloce cioè il gioco della 4 l'installo sulla partizione quella lenta per il test è praticamente 1 a 1 quindi ottimo e beh poi è grande cioè tu compri un gioco e poi lo riscarica interamente perché Demonsor se lo riscarica interamente ah ma anche Xbox funziona così Dario Moccio a Twitch è diventato un free free però Dario Moccio a Twitch è scritto il tweet infatti sai la cosa assurda che quando tu scari cioè perlomeno per me che ho la fast web quando compro un gioco digitale lo gioco prima che se ce l'avessi in disco perché il tempo che copio tutto ci mette più tempo che per scaricarli ah no quello no poi c'è quella cosa molto figa che però facevano già da un po' che scarica le cose necessarie installa le cose necessarie per farti giocare sì ma guarda io quella funzione lì non mi è mai funzionata con niente perché tutte le volte ti fa magari fa o il tutorial o vedi il menu iniziale e poi basta no su Persona era partito proprio sì strano guarda era proprio partito non mi ricordo non mi ricordo un sacco di giochi l'ho provati veramente ti fa fare due robe ma proprio due robe infatti io aspetto sempre che finisce ma che devo fare in quei calcola che non ho neanche fatti partire i giochi nuovi nemmeno uno neanche uno parte Astro li ho solo installati per dirti ma stai andando avanti a Persona Simo eh sì quasi finito voglio adesso no 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 mi hanno dato il nuovo il nuovo cioè abbiamo fatto il pranzo il pranzo fuori per festeggiare il palazzo è finito solo il primo è il primo poi inizio al secondo dai quasi finito e sì sì comunque ho deciso che magari gli altri con che cazzo ne so quando c'è un po' più di tempo mi ci metto eh ma perché se adesso c'hai i tre giochi da iniziare con Persona 5 è tosta perché veramente so 8 aspetta che altro c'hai mi sono perso un pezzo cos'è Returnal Gods of Tsushima ah ma hai preso la PS5 sì ah non avevo capito che l'avevi presa sì 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 Returnal Ghost of Tsushima e e Demon's Souls quindi insomma tutta roba cioè dovresti tenerli là per mesi con questo Astro l'ho finito ma sono impazzito su le citazioni cioè le scenette che stanno in giro sono una roba staccanina ma bravi e il cartoon è uno showcase per il pad sì che dopo mezz'ora ha rotto il cazzo cioè l'unica funzione figa 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 sono i cose i grilletti però guarda ti dico in un FPS aggiunge veramente un botto io adesso sto a giocare Far Cry il gunplay è buono però quei grilletti così è ancora più figo sì sì assolutamente però insomma non era quello cioè l'obiettivo era un altro per cui insomma ciao Fiordo ciao Fiordo per un po' di tempo magari un giro ce lo faccio con tutti e tre i giochi guarda fuori o subito sì però ti farà aiuto di quelle mangiate dei giochi eh sì eh appunto perché Returnal per dire magari la run te la puoi far velocemente diciamo ciao Ale ciao Simone ciao ciao Ale hanno messo pure il salvataggio in mezzo a run quello li salva l'hanno messo alla fine sì l'hanno messo da buonissimo vabbè allora sì dai puoi fare una partita ogni tanto non retta quella eh magari Returnal sì gli altri piano piano vediamo se da qua a qualche periodo natalizio che c'è un po' più di tempo magari una cosa perché da monsozzo sto sicuro che in tre ore faccio dieci centimetri proprio di strada mezzo metro sei ottimista eh sì quindi insomma vediamo mi sono un po' pentito che ne parlano tutti molto bene e potevo fa potevo prendere phoenix rising ciao doctor che ne stanno a phoenix i morti a rising abbiamo quello costa 20 euro cioè veramente lo trovi a due lire ah sì sì ok allora secondo me a 29 lo trovi ma pure meno poi vediamo un po' aspetto ma vogliamo iniziamo prima di Stefano che ha detto mi sono appena svegliato quindi adonna pensavo di farlo tardi io invece eh qua era simo costa 24 euro la versione PS5 su Amazon adesso quindi di cosa? di Mortal Phoenix qualche negozio che se lo vende a a una cifra eh sono dei pazzi sì sì pazzi furiosi che fanno la pasta a mezzanotte mamma mia ma chi è che si sta godendo il trailer di Sonic qua bello bello non sembra male ma guarda che cioè per me io un po' ci credo ve lo dico ma il primo l'ha visto io l'ho visto io l'ho visto ed è stato carino te lo dico oh io guardo dopo che ho visto mamma ho perso l'aeron remake ma invece che tutto è possibile non mi ferma più niente comunque io me odio ma voi molto di più scusate ma la storia dei cioè la storia dei baffi per me vale tutto cioè Jim Carrey che è serissimo c'ha quei baffi ah ah il trailer del secondo ma Jim Carrey ha rilasciato una dichiarazione in cui ha detto che ha giocato talmente tanto a Sonic al college che se gli chiedono di fare otto film lui li fa tutti penso a te ma cazzo ma fa un'interpretazione ma c'è in quel pezzo di trailer che si vede con quei lui serissimo che guarda la gente io stavo impazzendo quindi numero uno vabbè Jim Carrey serissimo poi parliamo eh no appunto faceva il personaggio super serio super motivato e poi eh vabbè bello segue dal giorno sei minuti fa perfetto sì dopo ve ne parlo dopo ve ne parlo Mircotto faccio una super recensione perché quel film merita di essere visto senza spoiler ma è un film è un film c'è una serie adesso un'ora e quindici io posso dedicare ma un'ora cioè sei sette ore ma io so che non vai sotto non devi essere sottovalutato perché il tuo ma infatti dopo ho compensato con Death Note con i Gorilla che eh dai per piacere ma ma l'hai visto si mancano una o due puntate ma 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 l'hai solo sentito l'ho finito no no l'ho visto tutto accuratamente l'hai visto o lo hai sentito sì sì l'ho visto con gli occhi aperti quello coreano orbound orbound mi sono arrivato i messaggi guardalo prima che lo vedono gli altri così non c'è il cazzo quanta realtà e io ancora dove vediamo un po' se il suo fine fine settimana non esiste più appena iniziano appena i film passano Natale voi c'hai aperto un negozio eh sì appena passa il Natale c'è quel momento bello di Natale orribbe sono stanco morto manca ancora una settimana e poi muoio perché poi mentre sto là lavoro pure per altre cose che faccio quindi è doppio però doppio turno ti pagano per lavorare ad altro ma sembra giusto appena io lo diciamo a Ilaria mamma mia faccio il gigolo ovviamente il secondo lavoro faccio lì in negozio poi ti sembra sempre che c'ha dei dick fa tutti gli occhietti se bevono fa magari il cotto cazzo non devi pagare l'affitto non devi pagare la magnata magari oh dopo domani esce amico tuo mio Paolone chi esce Paolone chi è è Sorrentino su Netflix ah si 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 carico si si voglio mercoledì esce il 15 mercoledì guardo sicuro vabbè ci sarà la suora sulle scale maradona o limoni e giraffe al bagno vabbè ma un compenso mercoledì esce un film importante invece a differenza di questo che è Spider-Man ma per carità io sono carichissimo sono carichissimo io ci devo andare non lo so come ci devo perché dei miei amici nessuno ci vuole nessuno e meno male stavo a leggere tipo The Space impazziti per questi posti sorriti ho letto anch'io si ve lo confermo io ragazzi a mezzanotte stavamo prenotando i biglietti e non funzionava una sega l'ho fatto la mattina dopo Bruno quando ci sei si sto qua allora partiamo poi stavamo arrivo arrivo aspetta ti metto la diretta così anche perché io ho un mal di testa allucinante non lo so se reggo la cicletta ah è vero ho provato pure Matrix questo qua probabilmente scordate allora stacchetti 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 sto in pausa qua ok 3 2 1 ben tornato e bentornati in una nuova puntata di free playing podcast che parla dei videogiochi e dei ritorni una volta alla settimana io sono Simone e con me c'è Bruno ciao Bruno ciao ciao a tutti Mirko ciao ragazzi ciao a tutti Matteo ciao Alessio ciao Simone grazie per non esserti dimenticato di me Fabio ciao e chissà che non ci raggiunga qualcuno durante la puntata e bentornati siamo in sentite l'odore dello zenzero Fabio penso che lo sente più di tutti sì in culo proprio Alessio anche mamma mia quello è il dischio e come lo mangi lo zenzero esatto come le famose supposte almeno l'intestino va molto bene oppure metti su perché lo zenzero fa bene l'intestino sì vabbè è una cosa che nessuno può riscontrare ok ok ciao ragazzi ciao questa è la settimana carica siamo verso verso Natale quindi ci si appresta a fare i regali ci si appresta a comprarsi i regali le cose le tredicesime le quattordicesime le che non so sto dicendo cose a caso mai visto e nonché è sempre quel periodo di di bilancio di bilancio di fine anno mentre ci si proietta verso il prossimo e si 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 procede a fissarsi gli obiettivi che vorremmo raggiungere o quelli che abbiamo raggiunto durante l'anno che sta per finire uno degli obiettivi che dovreste avere è supportarci perché noi siamo dei vostri amici da un sacco di anni e quindi iscrivetevi al nostro twitch che è da dove stiamo trasmettendo in questo momento il nostro canale iscrivetevi sulla nostra pagina facebook entrate nel nostro telegram canale voce canale musica canale zozzo e altre varie hanno in verità su questi canali basta e state con noi state con noi perché perché noi ci siamo e siamo con voi e non vi te lo diamo mai bene con questo bellissimo intro non so se nel frattempo è entrato Stefano ciao Stefano ciao ma l'ho anche detto non mi hai ascoltato vabbè no perché non sentivo nulla ah ok mi hai fatto inserire ciao mi ha menzionato beh ma dormivi per arrivare ancora a mio carico certo adesso sono mi date un altro paio d'ore e sono pregno di energie ti sento allora in chat c'è un po' di gente saluto a Fiordo saluto a Mircotto saluto a Dr. Gogol ah non vedi e chi altro c'è free playing ciao free playing erano 88 chi altro ci sa erano 88 che poi sarebbe sempre Alessio ciao ciao ragazzi ciao a tutti cominciamo allora ah aspetta aspettate tra tutte le cose che potete fare per supportarci potete anche andare da Sakura Bio e sceglierlo per i vostri regali natalizi Fabio faccio una carrellata dei regali che potremmo trovare e fare da Sakura Bio allora guarda direttamente dall'home page del zio se siete di Roma passatemi a salutare se no siete degli stronzi chiaramente se invece non siete a Roma direttamente dall'home page del zio c'è proprio una sezione che si chiama aspetta guarda in diretto perché non mi ricordo no no perché perché pensavo cioè proprio il nome cercavo si chiama idea e regalo a Natale pensiamo noi dove trovate tutti i cofanetti già fatti quindi avete anche addirittura da uomo che l'anno scorso sono state un grande cosa c'è per me cioè se io ti vengo a trovare cosa mi dai un cofanetto da uomo cosa c'è dentro raccontaci allora ce ne sono o quelli con il bagno doccia il profumo e il balsamo per la barba che cazzo di uomo si lavano bagno doccia come sono tre profumazioni dedicati allo zenzero quello sta in un altro posto che vi ho detto prima quindi purtroppo non può essere estratto ci sono tre profumazioni ispirate a tre vini cioè quella ispirata al merlot al sangiovese al sauvignon sono molto buone devo dire la verità sono tipiche coreane chiaramente no no questo è tutto non c'è niente di coreano di natalizio c'era il calendario dell'avvento ma è terminato quindi non c'è più e queste sono italiane dottor Taffi è un marchio italiano da non profondere chiaramente esatto fa due servizi una di queste qua mi piace di più ma non mi ricordo qual è sinceramente credo che sia il merlot l'ho sentito oggi ma non ci giurerei e poi c'è insomma tutta un'altra serie di cofanetti ovviamente questo c'è pure con profumazioni un po' più femminili via tipo a Ludo Charlie che le regaliamo che è l'unica femmina che gli regaliamo l'unica femmina nel mondo a me piace molto quello profumazione velluto vaniglia è molto dolce è buona velluto vaniglia ok scusa ho capito ma queste cose devono chiamarse così capito si si no ma infatti io ti dico che tutta sta roba un po' c'ha la sindrome di Giovanni Rana che mette tutto dentro tipo catrame carciofini buonissimi esatto si è il mio gusto preferito per fare il bagno senti fa ma è sangiovese proprio il vino è sangiovese buono è ispirato a quello poi ovviamente il profumo non è fatto col sangiovese ma tipo se io sono un barbone alcolico mi compro questo me lo bevo e e muori mi fa effetto no non mi pulisce credo tu muoia credo eh tra l'altro ho scoperto che è il sangiovese la base è tipo della metà dei vini italiani così mi dicevano in un'emoteca sicuramente non sarà vero però esatto poi in ogni caso nel sito trovate il tastino per con whatsapp che non vedo tra l'altro adesso quindi non lo trovate però ci sono tutti i contatti sotto se scrivete e non volete fare un cofanetto di quelli già fatti Ilaria vi dà una mano a comporre un pacco regalo bello come si scarica da risposta Ilaria vi dà una mano ma non ci sta whatsapp ci sta però il numero di telefono o di casa 06 no non è di casa è del negozio sicuramente Ilaria è più preparata di me senti io ho letto che c'è scritto qua sulla home i segreti della cosmoesi coreana spero ci siano fluidi corporei eh certo involved beh sì cioè proprio sai che loro sono specialisti anche la mappa via dalla casetta matti 48 sì e accanto c'è la fotoottica che si chiama ottico secondo sì è vero è vero è così ma non c'è lo street fortunatamente non vendono originalità eh beh certo no quello quello no e dopo che abbiamo eccolo qua ma vi hanno fatto una che vi hanno fatto un graffito che è passato 0 calcare a fare i graffiti c'era già sì di felice chiaramente no non mi sapevano una D più brutta e accanto c'è fotoottica eh sì nel momento one hour photo qua eh sì tango blu che cos'è questo tango blu che c'è è un negozio di appigliamento blu quando provi il tango blu non si torna indietro eh sì è il negozio di appigliamento è il tango della muerte pizza c'è anche una chiesa proprio con una croce gigante dici con una chiesa che è ancora che protegge tra l'altro guarda sto vedendo adesso in diretta ed è arrivato un ordine da un nostro ascoltatore perché ho utilizzato il codice promozionale free playing tvb con il 10% di sconto Nicola grazie Nicola ah Nicola nostro amico Nicola che sei comprato per la privacy per la privacy non credo che possa dirlo comunque due tre cofanetti tre cose che stanno nella sezione di cosmesi coreana diciamo sì quelli famosi con i fluidi corpore esatto ma ce n'è uno col sangiovese ce n'è uno col fluido ce n'è uno col fluido corporeo di uno che ha bevuto il sangiovese prima sai che c'è sta teoria secondo cui esatto il sapore cambia a seconda di quello che mangi e bevi puoi vedere ma lo sai che una volta c'era non è più il vecchio free play sai che una volta c'era c'è anche il castoro vicino che cosa è un supermercato un supermercato un supermercato mi sa solo romano sai e tra l'altro guarda se vedi il castoro e lì vicino c'è un bar che è il bar dei miei genitori ma io vedo sono una farmacia vicino e si fischiano un po' più a destra scusa fai io vedo la farmacia è un po' più a destra mi fai una spirina sì ecco è un caffè è un castoro dice google che conferma che da tablet e telefono c'è il tastino whatsapp quindi forse ah beh giustamente da computer non ha senso sono ancora più intelligente si c'è qualche sul computer whatsapp ah eccolo qua no ma l'hai fatto con squarespace con wordpress wordpress ah wordpress no per un attimo ho pensato alla fanpage mi è venuto in mente senti no volevo dire che è sta curiosità che c'era il professore mio di sessologia ecco che disse che praticamente perché sono accesi no quindi romagna piadina disse che i piadinari e le piadinare tipo prendiamo l'impasto e poi se lo sbattevano sulle spalle per appiattirlo oddio pensavo peggio no e lui diceva eh perché comunque anche le ragazze perché in quei giorni la pelle ha un sapore diverso e quindi anche la piadina aveva un sapore diverso e quindi ci sono delle delle conferme a quello che dite del del sapore hai provato quindi non non posso tango blu quindi un coso di vestiti sì da donna ma non c'è manco un vestito in vetrina cioè perché li tolgono blu perché se no se li lasciano di notte credo che non li ritrovino vabbè in effetti Roma ma questa è zona Vietnam o è zona buona di Roma è zona diciamo zona Laos più che Vietnam è vicino ma non così pericolosa però insomma hai presente i video di Cicalone tutto quello che hai visto di Cicalone è intorno a casa mia ve lo trovate là che passa e fa le interviste più o meno quello è successo a me cioè che non l'ho visto fisicamente ma è venuto proprio cioè ha sfiorato la macchina mia nelle inquadrature per tanto così praticamente ma tipo se passa di là che mi dice ah vieni Cicalone vieni vieni a provare sto profumo zucchero guarda se zoomi un po' di più nel prato lì vedi le cacche di Nann che io le raccolgo però non dovresti vedere ho capito va bene allora visto che abbiamo fatto le nostre occhiali da vista un euro eia l'ha tolto quel cartello comunque è già diventato un povero no perché poi entravano da noi e dicevano è qui che si fanno ma infatti che cazzo c'entra il cartello occhiali da vista un euro di fianco al suo eh perché prima prima lui era grande due negozi quindi c'era pure il nostro ah fotottica era capito capito eh in effetti adesso sapete tutta la storia ok ci ho messo un quarto d'ora ma sono riuscito a recuperare la chat da twitch non mi ero mi ero perso la chat bene allora in questa settimana dove appunto ci stiamo avviando lentamente ma neanche troppo al Natale c'è stato l'evento degli eventi dei videogiochi dell'inverno di free playing no free playing non c'entra ma di joff joff highly niley vabbè insomma il baffo il roberto guarda ho sentito l'altro giorno che è joff perché come è joff quindi joff ok e e insomma io non vorrei ricominciare cioè fare quelle cose tipo ah leggiamo come facevamo no anni fa che leggiamo tutto c'è poco senso no parliamo intanto se qualcuno ha visto l'evento parliamo di qua partiamo da qua mi sa solo tesimo solo io solo i trailer sì sì e vabbè vi faccio un 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 recap fondamentalmente si sono e ormai sappiate che world premiere non vuol dire più niente perché ogni trailer che è stato mandato durante il la serata era un world premiere quindi fondamentalmente non è diciamo non esiste più come concetto quando è stra abusato e tra una pubblicità e un trailer ogni tanto si ricordavano che c'erano persone che avevano concorso e che erano magari arrivate fino là per partecipare all'evento insomma dei dei TGA per cui fondamentalmente l'evento è diventato un una specie di E3 ma un piccolo E3 diciamo in vista del Natale per non far aspettare un anno intero perché appunto ripeto pubblicità su pubblicità e trailer su trailer trailer tra l'altro il 97% direi anche il 100 però diciamo il 97% in computer grafica quindi non c'hai assolutamente idea del gioco che stai per vedere e altri sono alla stregua di quello di Metroid 4 cioè che c'è il titolo e poi ci sono 7 foto in CGI così e abbiamo fatto quindi diciamo che fondamentalmente come dicevano commentando un po' vedevo il commento di multiplayer perché vederlo pulito tutto l'evento sarebbe stato da uccidersi anche se ho visto tutta la maratona nel multiplayer va bene e dicevano che in momenti tipo lo sviluppatore di Dragon Cancer che fu invitato a cuore è finito Simo? alle vabbè io non mica ho visto in diretta ah no che stai scherzando no no infatti alle 5 no no alle 5 ma non l'avrei mai visto da solo insomma così per chi ha visto solo i trailer ha fatto benissimo perché poi appunto le premiazioni sono state 4 fatte 3 fatte all'inizio durante lo show ne sono state fatte boh non lo so un'altra 3 e poi le altre finali prima del goti sono state fatte allora questo ha vinto questo ha vinto così questo ha vinto colà quindi c'è ma al momento neanche leggevano le nomination quindi insomma e per cui volevo chiedervi se intanto c'avevate un commento su diciamo commenti sulle premiazioni io penso che non allora possiamo dirne uno sicuramente che itexduck ha vinto il game of the year e in lizza c'erano resident evil 8 quindi village e rachette clank e deathloop e psychonauts 2 e lui mi pare che guarda mi sa che qua il 100% delle persone che hanno giocato giusto il 100% delle persone che hanno giocato itex2 non sono d'accordo con la mia azione si è un po' esagerato ma intanto che altro è riuscito questa roba allora però però questo mi sembra un po' il concetto dei festival in cui premia io fa esempio i festival dei fumetti tutti gli anni ogni tanto danno dei premi no e c'è tipo coloristi coloristi è una categoria dove ce ne so pochissimi in Italia e quelli bravi sono stati tutti premiati per cui o continuano a premiare quelli oppure ogni tanto lo diamo a uno a caso perché tanto devi dare il premio cioè capito mi sembra questa situazione qua stanno è stata un po' parli delle premiazioni in generale o del game of the year ma parlo del game of the year dei game awards quest'anno cioè i giochi che avevano che erano candidati non è che erano sti grandi gioconi o sti gran roba e qui sotto il 9 di metagritic tutti beh sì ho capito ma in un anno in cui è uscita poca roba non è che c'è stato un concentrato di originalità e tutto cioè si è proprio visto quest'anno che c'era una certa povertà dei contenuti da proporre o è un'impressione mia se secondo voi che alcune cose oh perdona a te che Fabio avete parlato bene comunque del gioco ma io te ne posso parlare bene ma da lì a distinguersi come il gioco dell'anno il gioco più bello che è uscito vuol dire che la concorrenza era proprio a zero cioè poi magari su io che sono un po' cattivo in questa situazione perché il gioco è carino merita e tutto però torniamo lì non è che è un gioco che ti rivoluziona la roba o che te e i tuoi amici dici no devi giocarlo assolutamente non puoi farne a meno cioè io vi dico volete provarlo vi divertite buono se non lo fate pazienza non è che vi perdete un'occasione proprio in esperienza videoludica che vi cambia la vita secondo me dovevano premiare Cyberpunk però non ci hanno avuto il coraggio quindi e cazzo vabbè è pure peggio calcola che mi diceva per esempio ora non lo so più di una persona in particolare a me lo disse Gogul l'ha detto uno dei giochi che almeno doveva andare in Lizza era Death Death Door Death Amore perché dicono che sia non solo lui ho visto pure Mottura ne parlava bene insomma diverse persone hanno parlato di questo gioco come una rivelazione ma già banalmente adesso è uscito quest'anno no? no era l'anno scorso vinto l'anno scorso però per esempio guarda a puro livello numerico Hitman 3 ha avuto dei voti più alti per esempio vabbè a prescindere dai voti magari era meglio sì essenzialmente per me era meglio sicuramente però dico se il la cartina attorno a sole i voti della stampa Hitman 3 c'era più alti vabbè c'è sempre quel problema che magari alcuni giochi che escono a fine cioè a dicembre tra dicembre e gennaio poi alla fine rimangono il dimenticatoio no? ed è stato il caso anche di Forza che dovrebbe poi entrare quest'altro anno ma di fatto ha perso qualsiasi possibilità di entrare in Litz adesso sia non tanto come Game of the Year che comunque ci stava ma proprio come in qualsiasi altra categoria a forza ha vinto qualche ha vinto miglior sonoro e allora come i goti non hanno fatto entrare c'è stato il caso di Forza sì comunque bisogna dire pure lì se la so giocata un po' come volevano perché per esempio Halo infinita ha vinto il premio del pubblico un giorno prima che uscisse non era uscito vabbè sì quelle cose fatte un po' così per cui vabbè a me ha fatto molto piacere di questa cosa poi vi chiedo mi ha fatto molto piacere vedere Reggie Reggie non lo so pronuncia che stava sia dal pubblico che poi ha votato e ha premiato non mi ricordo quale categoria ma insomma è stato bello a me piace sempre lui vederlo ma sì dai fa sempre piacere dai è un amicone tutto sommato come un amicone che ha detto che ha detto Reggie che ha fatto no c'era 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 pensione è stato tutto a posto c'è stato a posto sì sì la pressione è stato a posto i digliceriti un po' però è stato a posto e Fiord88 scrive comunque Yogono 1969 fregna non so se è un messaggio in codice no non lo so comunque e invece sui trailer vorrei chiedere volevo partire da Matteo se ci aveva da dirci qualcosa sui trailer scusa non diciamo niente della premiazione di Fares che se ah è vero che the fuck di Oscar è finito grazie no no ma a parte quei cioè si è è arrivato l'hanno nominato si è alzato proprio che pareva che si è strappato la mascherina è andato Daniel Druckmann che era visibilmente spaventato se l'ha abbracciato poi secondo me gli aveva lasciato pure un po' di bava addosso quando se l'abbracciava e non voleva proprio abbracciarselo si si era andato a disinfettare col fuoco dopo si è bevuto il gel per le mani e poi niente ha detto che la statuetta la darà alla figlia ha detto questa piace a mia figlia per giocarci e poi basta ha detto i figli so piazzegore tipo si si se non c'avete figli fateli ha detto che così state più tranquilli più sereni non lo so non divorziate ma è divorziato lui che sappiate ma sicuramente spero se sei divorziato è proprio strozzo scusate volevo capire un attimo se quel gioco era qualcosa per confermare un po' le mie tesi però ma si che sarà divorziato ma figurati secondo me mi dà un posto impressione cioè non ci ha fatto divorziare nel gioco a nessun costo immagina se ha raccontato cioè quello è il modo in cui il suo matrimonio è stato salvato da un libro forse lui è il libro forse lui è il libro esatto non lo so sto cercando per vedere se sei divorziato vi farò sapere comunque Mircotto evoca questa scena che dice un po' benignano fare Joseph Roberto vabbè senti Matteo tu qualcosa di trailer hai visto invece parliamo di cose ma trailer ho visto eh una cosa che qualcosa l'ho visto ma ah vabbè un'altra solo nel Blade 2 eh vabbè eh poveri noi siamo pochi siamo delle scene ridirigi e poi è arrivato a Microsoft che ha detto tenete ragazzi con la valigetta dei soldi e hanno fatto il gioco e a cazzo da vedere è bellissimo poi non so il gameplay neanche 4 secondi probabilmente però insomma si a me a me non piace quando corre corre proprio brutto quando corre con le braccia attaccate al cuore mi rende conto che è un gioco quando corre vabbè però non può più l'illusione guardate là guardate là si diciamo che è quella roba che a me da una parte piace perché non c'è non ci sono interfacce c'è misto tra ma poi vanno a rompere il cazzo la al gigante che se ne sta nella sua caverna piano bel tranquillo ma poi è quello attacco on titan nel B2 no guarda come vuoi guarda come vuoi ma cazzo vuoi mannaggia bello tranquillo stava poverino stava morente si infatti sono andato a rompere i coglioni poveraccio non ho capito infatti si sei il gigante che l'ha inseguiti vabbè l'ha inseguiti perché vabbè gli hanno incendiato casa che cazzo deve fare non sta dentro sta facendo l'affari su non ha chiamato la polizia esatto polizia non bisogna mai farsi giustizia da sole comunque vabbè si vede che sono arrivati i soldi appunto dicevo anche il primo era tanta roba visivamente sì ma il primo comunque l'ha fatto in economia questo invece ce l'hanno speso secondo me pensavo che non avrebbe avuto successo troppo sai serio il primo è stato un progetto che hanno fatto cioè non è stato il progetto fatto con due soldi evidentemente qualche finanziatore l'avevano riuscito a recuperare però comunque era fatto a risparmio nel senso che avevano investito tanto in questa tecnologia di motion capture sia fisico che proprio delle espressioni dei volti e poi però per il resto sono andati molto a risparmio cioè non hanno usato gli attori veri i filmati di attori veri per fare i comprimari hanno usato due tre nemici in tutto il gioco gli scenari sono fatti bene esteticamente però comunque molto semplici forse mi ricordo male ma mi ricordo che loro proprio in giudieri disse che erano un po' al canto del c'è era l'ultima cosa che riuscirono a fare sì era il progetto Olavao la SPAC gli è andata bene perché appunto poi sono stati presi sotto l'ala di Microsoft dove tra l'altro hanno fatto il primo progetto che hanno fatto era tipo uno shooter multiplayer che credo se lo siano giocato solo loro e adesso è il Blade 2 che onestamente boh il primo trailer quello dove lei faceva la canzone di battaglia là mi aveva ispirato di più questo qui mi sembra proprio la tipica roba da 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 tripla suoni con la cutscene le copero non mi ha lasciato un po' freddino onestamente vabbè si è visto ancora poco ho capito mi era piaciuto di più il trailer dove lei si cantava tutta incazzata l'urlo di guerra qua invece boh dove cazzo stanno che stanno a fare hanno preso un pezzo del gioco penso sia un pezzo del gioco quello era più una roba eh appunto questo è un pezzo del gioco mi ha lasciato molto molto boh Bruno tu invece? eh io Space Marine 2 sono sono veramente cascato warhammer sì 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 ma sono due giochi di warhammer quelli annunciati o è uno? ma mi pare che ce ne fosse pure un altro però quello strategico diciamo sì sì quello che potete giocare voi io quando è stato l'impatto è stato più o meno come quando presentarono god of war alle tre però ho moltiplicato dieci perché veramente è il seguito di un gioco di dieci anni fa che di cui tutti avevamo perso le speranze infatti sotto ci stanno i commenti eh fratelli finalmente l'imperatore l'imperatore ci ha favorito finalmente l'imperatore non si è dimenticato di nuovo i fratelli per l'imperatore tutti sotto i commenti casatissimi no sì un action terza versione cioè uno sparatutto alla gears no no quello fu il problema secondo me anche del primo gioco perché tutti vedevano sto sto maccione enorme con con i fucili che sparava e quindi tutti hanno pensato sarà un clone di gears of war invece no praticamente è un gioco dove sì puoi sparare però puoi anche fare attacchi corpo a corpo e c'è molta alternanza tra le due cose perché gli attacchi corpo a corpo li puoi finire con delle esecuzioni che ti ricaricano l'energia e quindi è un po' c'è un po' la dinamica di doom quello nuovo che è spari 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 però poi devi andare nella mischia a fare le esecuzioni per ricaricarti l'energia e quindi poi quindi ti controlli sto personaggio che è alto 3 metri e largo 4 con sta spada con la motosega che è quella originale che il suo vuole l'ha copiata e ammazzi tu purtroppo nel primo i nemici sono gli orchi che insomma qua già ci sono gli alien primo prezzo quindi già ispira di più e e quindi cioè fai sto gioco dove si sta sto carri armato che spara tutti poi si butta in mezzo c'è una mossa e nel corpo a corpo che praticamente tu dai tipo tre fendenti con la spada e poi dai un pestone per terra e tutti quelli attorno se ne volano e e quello ovviamente è il tacco dell'impero che schiaccia sotto il suo peso i nemici dell'imperatore e poi appunto un gioco con la schiena dritta è proprio ultra fascista come immaginario ed è bellissimo è bellissimo perché quello buono ovviamente sì no ma a me un po' provoca un po' piace il fascismo a me è un po' il fascismo a me è un po' provoca diciamo dissonanza sì perché io ovviamente come dice Simone c'è il mio momento super comunista però cioè quando vedi questi che sono tutti tutti onore imperatore viene voglia di inseguire il nemico che scappa sovrapponibili il comunismo e questo quando va troppo da una parte no no fidati che questo non è sovrapponibile e sinistra non è proprio sovrapponibile e tra l'altro mi sono messo anche a rigiocare il primo per devo dire che il gameplay me lo ricordavo meglio questo lo devo ammettere però in questa seconda run sto apprezzando di più la storia e proprio cioè c'è proprio quei momenti la tessera del pane no no che cazzo c'è no ma se tu ti leggi Simone un po' di io poi dopo che mi giocava il primo Space Marine mi sono un po' infognato a leggermi un po' la lore di Warhammer praticamente hai ambientato 40.000 anni nel futuro e e la tagline è proprio nell'oscurità del futuro c'è solo la guerra e quindi sì ha fatto anche cose buone non so se avete visto il logo che dietro Space Marine c'è l'H di History Channel sì no ma poi c'è c'è una sì sì no ma ci sono 3 milioni di loghi perché questi poi sono Space Marine però di una setta degli Ultramarine di un capitolo degli Ultramarine poi ci stanno quelli gli Space Wolf lo sai la cosa lo sai la cosa che mi stupisce sempre di questo Warhammer è che a livello estetico sono d'un goffo e d'un proprio un po' sono depupazzone sono orribili questi sì che sono depupazzone sono tipo Shrek con i denti a punta e quelli più forti hanno il caschetto da baseball scusa no da baseball da football sembrano gli orchi che giocano a football però però c'è una cosa Warhammer che specialmente in questi tempi moderni che sono tutti ironia sarcasmo e non crederci mai a quello che dici perché se no è cringe c'è una cosa che Warhammer che ci crede proprio fino alla morte in queste cose cioè i dialoghi nel primo Space Marine sono che tu sei il capitano e ti devi buttare sul pianeta invece di aspettare di atterrare ti devi buttare proprio dalla nave spaziale mentre ti stanno sparando con il cannone orbitale o quello che cazzo è e c'è il compagno quello giovane la recluta perché nel primo siete in tre siete tu il capitano quello che si vede anche in questo trailer e poi c'è il sergente che è quello il comandante Dan c'è il sergente che è il tipico amico del capitano quello vecchio che ha fatto tanta esperienza però è rimasto sergente e poi c'è quello giovane che è quello che esige quelle regole e fa capitano il codice Astartes non prevede questa azione quando lui fa però tu tanto che sei uno space marine dovresti sapere che il codice è solo una guida e che poi lo space marine sceglie da solo e si butta giù in mezzo al fuoco schiva tutti i proiettili e quando hai presente quando i supereroi atterrano che fanno quella cosa con il pugno si dice la mano lui invece a terra col pestone e salta tutto in aria poi si solleva in quadratura dal basso e tu stai là stai là proprio col braccio teso si capitano 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 poi si chiama titus allora si solo che lo chiamano titus ma si no ma il codice Astartes in realtà nel gioco lo chiamano proprio codex Astartes a un certo punto c'è tipo un Metal Gear però di Warhammer al suo codice cosa sarebbe una sorta di condotta loro si si il manuale di istruzioni degli space marine e a un certo punto nel gioco dico sempre nel primo c'è una specie di Metal Gear enorme e lo chiamano Titan Invictus è veramente veramente e appunto c'è questo che ci crede fino alla morte cioè non ma sei riuscito a giocarlo nonostante il dito in culo oppure ti serve è stato difficile è stato difficile però e poi ripeto c'ha una grazie al codice Astartes c'è scritto come fallo e quindi ripeto ci crede tantissimo e non non e forse è per questo che c'ha questa diciamo questa tra l'altro nel trailer si vede che ci stanno noi come si chiama i soldati semplici che si inchinano davanti agli Space Marine quando passano perché tipo nella lore dice che un soldato semplice probabilmente non lo vedrà mai uno Space Marine in tutta la sua vita perché sono non può diventare uno Space Marine no 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 quelli sono selezionati fin dalla nascita guarda io sono sempre stato come Halo si si perché poi alla fine credo che Warhammer abbia diciamo abbia dato le basi a tutti i vari Gears of War Halo forse pure con lo duty magari no ma forse anche un po' sì e dice che nella vita di un suddito dell'impero uno Space Marine comunque è tipo una semi divinità e se la vedi infatti nel gioco nel primo li chiamano my lord mio signore perché loro sono proprio tipo li fanno con del mi spiegava Bepidef che diceva che Bepidef è di quella religione sì sì Bepidef credo che ne sappia molto più di me ah no non devi dire sì sì perché Mirko stava dicendo un'altra cosa anche sì Bepidef è un bravo ragazzo e diceva che tipo i Space Marine hanno parte del codice genetico dell'imperatore ma poi legge nella lore che c'è una cosa sono proprio incrastati di sperma dell'imperatore e poi legge nella lore che tipo l'imperatore dell'uomo e nella mitologia di Warhammer era tipo un super re che aveva difeso l'umanità da tutti gli attacchi e che alla fine si era tipo rifugiato in una dimensione parallela da cui con la sua forza di volontà proteggeva tutta l'umanità in tutta la galassia scusate è quello che è successo nel 1945 scusate probabile sì 48 e quindi ragazzi veramente cioè quelli che l'hanno giocato lo sanno il primo era molto figo perché appunto c'era questo super immaginario ultra fascista ultra nazista ultra totto e e poi aveva anche un gameplay che comunque era molto divertente perché diciamo che si comunque era un action alla fine sì era un action solo che ripeto non molti vedendo la terza persona il personaggio che era armato e tutto quanto pensavano fosse tipo un gear però per esempio non ci stanno neanche le coperture perché uno space marino non ha bisogno di copertura cioè tu quando lui la copertura guarda il gioco il gioco per giocarlo veramente mo' che lo sto giocando ogni volta che vado indietro col joypad mi sento un po' mi sento un po' una merda devo andare sempre avanti non devono cioè lo space marino non si indietreggia eh Bruno metti una puntina sul tasto per indietreggiare così senti il dolore proprio fisico sì 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 e perché così perché poi questo lo spiegava anche l'Anelli perché tipo ne parlavano di quel gioco in uno dei primi Ars Lodicast che tipo uno space marine può ammazzare 4000 orchi proprio secondo la lore non contati cioè 4001 e uno no che cazzo stai a fare ne hai deciso uno di troppo metti giù sì 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 quindi aspetto tantissimo questo space marine 2 per me ha annichilito qualsiasi altra roba che hanno presentato e perché poi c'ha veramente quella cosa di alla berserka anche no che che ti butti in mezzo alla mischia e e ammazzi tutti a spadate a sangue che schizza da tutte le parti poi non ne parliamo delle armi c'è tipo la pistola normale che in realtà è un mini lanciarazzi perché spara dei proiettili che sono cioè se ti metti a leggere là stai là con la bavetta sulla bocca che bello aspettiamo una bella live quando esci ci fai quando esci non lo so non hanno detto la data d'uscita e che altro volevo dire sì il pestone l'ho già detto se lo devi giocare la combo tre spadate e il pestone perché poi quando fa la mossa finale le esecuzioni si 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 rallenti di tutto e veramente 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 se lo giocate su pc il primo vi consiglio c'è la patch che aumenta il fov l'angolo di divisione perché come normalmente saranno tipo dieci gradi si vede tipo la spalla del marine che occupa metà schermo e i nemici piccolissimi invece con questa patch si riesce a vedere un po' di più e si gioca meglio e dice bebidef non un passo indietro come durante la serie di Stalingrado sì sì esatto è proprio così non cioè devi andare là magari rallenti un po' magari scrivi un po' di lato però devi andare sempre avanti sempre avanti non ti devi fare né intimorire né impietosire dal nemico dal nemico dell'uomo e e quindi tra l'altro curiosità lui il tizio ha quattro borchi sulla fronte che rappresentano ogni borchio sono cento anni di servizio quindi minchia sì perché ovviamente loro sono super geneticamente modificati nella loro spiega anche diciamo tipo tredici organi aggiuntivi ma come e quali sono? e c'hanno due cazzi i soli quattro culi quattro chiappe quelle cose lì no uno è il tipo che gli innestano una roba che per sputare velino dalla bocca oh madonna può sempre servire comunque un'altra e sì no diceva quello che ho letto notava pure che era poco usata nel eh però ce l'ha e sa perché e poi sì altri organi credo anche per potenziare il cuore sistema cardiocircolatorio fattore rigenerante cazzi e mazzi e nel primo nel primo capitolo ce ne aveva due di ste borche quindi questo spiegherà anche che cosa è successo nel frattempo si ipotizza e poi se vedete appunto sotto nei commenti dei trailer ci sono un sacco di analisi tipo che lui c'ha una catena intorno all'avambraccio che significa che lui è stato dentro un altro capitolo di un altro tipo di space marine e c'ha un ciondolo che forse significa che un amico che ha perso in battaglia bla 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 è fatto proprio da super nerd sta roba cioè sì 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 è proprio pensato per un pubblico ultra fidelizzato che sa tutte ste roba perché è un bomba di certo è un bomba di scusate certo che c'è per chi li hai presi scusa mica sono che ma hanno dovuto cambiare il nome perché sennò sì tipo c'è uno una roba gigantesca io ho tipo un paio di libri loro ma ho detto ah vediamo un po' in che ordine bisognerebbe leggerli ho detto porca cioè solo di libri uno c'è da leggere comunque adesso mi sembra che abbiano pure rifatto le miniature che una volta c'erano proprio quelle proporzioni strane che erano basse e tozze no e adesso mi sembra che tutta la linea della games workshop proprio le ha rifatte un po' più realistiche sono molto più belle rispetto a come erano però sono rimasti ancora un po' pupazzoni sì che poi uno space marine è alto tipo 2-3 metri una cosa del genere eh beh sì è tutta roba geneticamente modificata esatto il minimo indispensabile insomma eh dai sì e poi un'altra roba che dicono nei commenti che tipo si vede proprio mezzo frame si vede che c'è uno che c'ha l'elmetto rosso e dice che quello è il segnale che sei stato scapocchione in battaglia e quindi gli danno l'elmetto rosso della vergogna ma come le maglie rosse di Star Trek sì una cosa del genere però sono quelli che muoiono per prime no no si è stato scapocchione in battaglia quindi mettono l'elmetto rosso per dire sono uno scapocchione e quindi niente quindi Space Marine 2 nessuno ci sperava perché ripeto il primo gioco è uscito addirittura era di THQ quindi fallimento bancarotta ma il gioco era andato bene nonostante tutto credo che credo che sia andato boh bene ma non benissimo si è guadagnato questo questo successo di nicchia di super appassionati che lo ricordano tra l'altro uno dei più grandi fan di questo gioco era il compianto Total Biscuit che si trova ancora si trova il video dove lui ci giocava e stava gasatissimo pure lui mentre ci giocava sotto nei commenti c'era chi scriveva fratello finalmente ci hanno dato un seguito altri commenti che dicevano ricordiamo i nostri fratelli caduti in battaglia quindi tutto questo questo immaginario fascistissimo è inutile girarci intorno eh sì esatto sì è vero però è quel fascismo fascismo che ti dà lo spirito di corpo proprio che tu stai lì che dici andiamo contro i nemici dell'umanità e quindi ti gasa rimandiamoli a casa loro cosa che nessuno ha il coraggio di dire e fare di corpo come attività fisiologica quindi ma guarda ragazzi il problema è che comunque questo diciamo questi aspetti del del come dire la come si traduce camaraderie il cameratismo lo spirito di corpo eccetera eccetera che in sé per sé non sarebbero negativi solo che poi vengono associati sempre con ignoranza intolleranza ma non è che dietro i call of duty non ci siano è sempre ste cose solo che qui è portato all'estrema proprio conseguenza sì qui c'è proprio il superimmaginario perché poi sono tutte aquile teschi teschi vabbè non c'erano credo all'epoca però sono tutte ma qui loro combattono sempre contro i mostrazzi e credo di sì credo di sì nel primo era tutto contro gli orchi e poi verso la fine spoiler c'era qualcosa altro che c'era di c'era tipo gli space marine del caos però che erano stati toccati dal caos e quindi i partigiani non seguivano più no non li chiamo così ma caos in effetti potrebbe essere una metafora adesso che ci penso no perché non ci sono i partigiani perché sono tutti cattivi cioè i nemici non ci sono perché li hanno ammazzati già tutti probabilmente no i nemici sono delle bestie orribili che vogliono uccidere l'umanità quindi chiaramente che cosa fai ah no proteggiamo queste povere bestie eccetera insomma li capisco anche dai e marò poi alla fine scusa le foib e quindi è così ragazzi però cioè sono quelle cose che ti prendono è un po' come Baki pure Baki non credo che sia molto progressista come ideale però stai lavi di stai montagni giapponesi stai montagni di muscoli che fanno io sono grosso tu sei grosso io sono grosso che grosso c'hanno questi non parlano così però il concetto è quello quando si confrontano di del del mettersi dello spararsi le pose del minacciarsi del guarda ti spezzo no ti spezzo prima io no io ti spezzi in quattro ti spezzi in otta ed è tutto così e secondo me ripeto è bello che in un momento storico in cui deve essere tutto sì però non troppo che sennò poi imbarazzante sì però con l'ironia che sennò poi ci crediamo troppo così è esistono ancora degli immaginari che sì basta come quello del meme e va fanculo ok Alessio tu hai un trailer preferito? no non l'ho fatto in tempo a vedere niente purtroppo dicevo in chat che la bur maledetto più chiamate dei parenti vabbè Matteo ma l'ha già chiesto te l'ha chiesto a te già sì mi ha detto scusami Fabio ma in realtà preferito tra virgolette tanto sono contento che stiano sviluppando Alan Wake 2 una roba che volevo da tanto certo che non si è visto un cazzo quindi contento ma boh ma Fabio ma perché Dokev non t'ha convinto mamma mia ragazzi ma che cazzo io ti sono passato da un trailer a bomba eccezionale a una mondezza incredibile una mondezza ma l'hai visto le animazioni a me la cosa che inquieta è quella roba che ballano cioè io ho avuto i flashback di Animal Crossing di quella roba lì sono svenuto con la barba ma che hai visto quelle animazioni su Dokev ma che vai no guarda adesso in diretta perché non l'ho visto mi scoppia la testa a me quella roba lì mi è scoppiata la testa era un delirio chiaramente porca puttana però cazzo le animazioni sono devastanti ho detto la roba che mi ha impressionato è che sono tutti i bambini l'hanno ridimensionato molto comunque rispetto al primo sì animazioni sono fantastiche comunque porca troia sono impressionanti cioè proprio detto questo è chiaramente un gioco che non giocheremo mai quelle robe coreane che forse beh ma se fanno due trailer in eventi internazionali cioè io ci spero che in qualche maniera ma magari poi giochino a merda sai sono quelle cose strane sì anche a me comincia un po' a puzzare ma dai il primo trailer ve lo ricordate non ti puzzava quindi tre mesi fa adesso ti puzzava c'era veramente no no tre mesi fa ero esaltatissimo sembrava capolavoro però secondo me mi sembra un po' troppo fatta bene sta roba infatti no ma io come sa che sono cinque minuti cioè il trailer sono cinque minuti dove questi li imballano però esatto hai capito cioè come è venuto fuori questa Roma dopo quella no però le rimazioni sono devastanti io lo ripeto pure tre mesi fa mi aspettavo insomma che da giocare poi sarebbe stato perché comunque loro vengono dagli MMO non lo so non è che ce li vedo tanto ho fatto un gioco un single player che sia piacevole da giocare però da vedere è bellissimo vabbè su Alan Wake tornando a quello che avevi detto tu su Alan Wake sono contento certo comunque loro sono almeno tre quattro anni che stanno spargendo indizi ovunque perché chiaramente su Control alla fine è diventato più importante Alan Wake e Control perché ci hanno fatto un DLC a parte e già nella storia c'era un sacco di rimandi Alan Wake non lo so se è una percezione solo mia ma un po' se l'è mangiato poi Control cioè a un certo punto tutti hanno cominciato a parlare del fatto che dentro Control ci fosse Alan Wake se compri il doc ti arriva la polizia in casa subito oppure aspettano un po' prima di arrestarti ma secondo me devono comunque raccogliere le prove per pedofilia non penso che servono che alla fine andasse a prendere anche un po' tutte le robe loro mischiandole eccetera per me ci sta che è un gioco contenitore a un certo punto però è chiaro che poi a un certo punto l'interesse intorno a Control pure era dettato dall'interesse intorno ad Alan Wake il contenuto aggiuntivo lì che poi tra l'altro io manco ho giocato va chiaramente ha giocato qualcuno qui? no io no quel DLC manco io voglio da zero no quale DLC scusa di che cosa? il DLC di Control in cui c'è Alan Wake rimane ad Alan Wake no no l'ho preso però ah l'hai preso con tutto? sì l'ho preso negli ultimi saldi che c'erano su Epic Store anche per esempio l'idea di fare la remaster adesso chiaramente è portata in ottica del se questo se questo non esce tra tanti anni dice 2023 però insomma poi bisogna vedere ma chi cazzo ci crede no ma secondo te lo faranno open world questo qua dopo no no sarà super story driven non ne ho idea e ecco pure quello di Microsoft e Alan Wake 2 è Microsoft no? no mi sembra che l'annuncio addirittura è PS5 non sta sul pass allora perfetto beh ormai Remedy esce ovunque Microsoft perché il primo Alan Wake era esclusivo ah ecco 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 è vero però adesso con la remastered è arrivato pure su PlayStation sì sì è arrivato è arrivato ovunque boh lo so vediamo perché non si ha visto un cazzo no no infatti come tra l'altro stava a dire pure quello del creatore Silent Hill con con lo stesso compositore Slitterhead Slitterhead cioè l'idea che tornino loro due a lavorare insieme mi piace ma poi vediamo ma il bello è che dice ah dal creatore del primo Silent Hill e poi si vede sta roba che sembra più uno splatter di quelli super beceri di Seiju atmosfera ma neanche magari Seiju cioè atmosfera proprio zero solamente però l'inquadratura finale è figa con l'elicottero che passa sopra e lui fa sempre più zoom sulla casa casalinga cioè potenzialmente è bello anche perché gioca tanto secondo me con l'idea del virus che è quello che stiamo a vive forse non saprai chi è che ha sto virus chi è che si trasforma eh quello sarà figo però si però mi dici Silent Hill e poi mi fai vedere quello che ti dà la spatata al mostro lo tagli in due cioè vabbè il creatore Silent Hill poi non è che potrà far sempre Silent Hill nella vita vabbè comunque questa roba vedremo minimo tra due tre anni quindi potesse che cambia anche se la grafica sembrava promessere insomma non bene ecco quindi non so potrebbe essere una cosa un po' spartana come Tokyo Ghostwire in giapponesi mamma mia davvero quello sembrava a me eccita tantissimo lo stesso però Ghostwire è bello da vedere però rispetto a questo è mega bello da vedere sì non dico sul stesso piano però forse sono sensazioni vediamo sballate sì comunque tanto pure quello esiste non esiste va bene Stefano ciao io sono Stefano il nostro nuovo collega di podcast allora anch'io sono abbastanza sono felice per Alan Wake finalmente perché secondo me è un gioco che è stato troppo a lungo maltrattato ma io devo dire che sono per mi intriga Spice Wars Dune Spice Wars perché e beh allora c'è da dire una cosa grazie grazie anche a voi ragazzi uno che supporta strategici è appunto dico allora io spero che sia una roba l'hanno fatto su Windows 98 guarda me ne frega niente a me piace molto Dune di un 2 di un 2000 se esce un nuovo strategico io sono felice perché almeno esce un nuovo strategico perché finalmente ti spiega quello che è successo nel primo esatto capito perché non lo so adesso mi sembra che però sia una roba la Civilization se non ho capito ma lei questo un po' per quanto sia bello Civilization non è proprio il mio gioco strategico preferito io vorrei una roba proprio la di un 2000 però ti vuoi proprio muovere un'unità alla volta no nel contrario il contrario io vorrei una roba appunto appunto Age of Empires diciamo come per il 2 magari esatto una bella roba scusa stefano quello dice di un 4x real time 4x real time strategico 4x vuol dire 4x vuol dire 4x perché tipo explore exterminate quello che fa tutti i cosi lo chiama 4x quello che fa che ha fatto quello italiano eh l'hanno intervistato alla maratona di multiplayer e questo c'è la società come Andrea Andrea 7x addirittura non mi ricordo non mi ricordo il nome che lui sta per però sta per exterminate excavate excavate escalate allora aspetta comunque lo dico explore expand exploit exterminate ovvero esplora expand sfrutta exterminate questi devono essere varianti sia a turni sia in tempo reale sembra che sembra scritto da uno con la passione di face marina eh ma voi mi conoscete lo sapete che io un po' sono le 4x no 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 i 4x non è l'altro x è la puntata 4x è come 1990x pensa Andrea 7x lui è proprio è potentissimo esplore expand explora explora expand insomma e quindi io spero che sia una roba la age of empire insomma la dune 2 dune 2000 eccetera nell'ambientazione di dune che come sapete a me piace molto al di là di tutto di quello che possiate dire sui sui film soprattutto alcuni di voi che non farò il nome e niente e quindi io devo dire che sono eh porca contento per Alan e e anche per aspetta c'è ancora un altro Elden Ring come al solito mi sembra bellissimo ma come al solito non per me beh con quel trailer ci hanno fatto un super trailer di gameplay e poi ci hanno messo scena generica 1 scena generica 2 sicuramente è un bel gioco ripeto è un mio problema mio con quel gioco con quei giochi di souls like non e quando sono tornati dal dal video c'è stata quella scena imbarazzante con non so se l'avete vista che è questo ah con 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 l'enorme pentola con i piedi con le mani al robot che portava le nomination a coso a è stata una scena veramente dura da vedere diciamo eh vabbè non c'è comunque comunque quindi niente per me questi e poi anche altri sembravano interessanti ma non mi interessano quanto questi sicuramente molto curioso per la curioso per la week 2 il problema è che cioè io ho giocato l'uno sulla 360 ma ci sarà un capoponte mannaro in la week 2 sarebbe molto però mi chiedo scusate ma voi che ci avete giocato ad Alan Wake cioè nel senso io ci ho giocato cose dieci anni fa non mi ricordo più la storia sinceramente infatti è uscito da è rimasto era apposta eh ma io non c'ho voglia di reggiocarlo c'è lui che passava dentro delle case eh mi ricordo quello mi ricordo l'escavatore che lo voleva ammazzare lui tutte le volte pensava non capiva se se erano realtà o finzione perché in verità c'era quello che diceva la pesca sia uno sport che un hobby sì la cosa è qui che erano bellissime però siccome c'era l'ambientazione figa la gente gli ha dato anche una dignità che non aveva ma no non è vero ecco vedi ho giusto detto questo secondo me è un gioco che viene mistrattato era molto figa capannone no era proprio bello come atmosfera cioè era da quel punto di vista era mistrattato guarda solo la cosa dei televisori con dentro quella miniserie lì strana stile tu hai let's un ma che cazzo devi dire era era meritevole anche solo per quello e anche il resto non era male attenzione c'è una schiaccia sassi che si è arrabbiata con me come ah vabbè è bello è bello l'hai giocato qui chiusi l'hai giocato però sto gioco io l'ho giocato tra l'altro avevamo da idea massima di difficoltà perché ah ecco perché non ti è piaciuto perché sei rotto i coglioni ha senso mamma mia e beh no scusa ma se stai lì romperti il cazzo con i giochi ovvio che poi diciamo sto gioco con la cagata non riesco ad andare avanti eccetera no no a un certo punto dalla foresta sbocava un coccodrillo è successo il solito no non è possibile semmai era una chiave inglese hanno detto se è esclusiva qualcosa come lo so no ma manca esisterà ci si metteranno a gennaio dici che faccia in tempo che uscirà sul game pass credo eh però gli hanno rifatto la faccia l'unway che è diventato tra Keanu Reeves ma poi se avete visto alla fine del trailer c'è lui che fa eh cioè prima c'è tutto tutto bello e poi sei stancho e poi ah la wake infatti io c'è l'unico dubbio che la punti la spingano troppo su quella roba stile American Nightmare speriamo di no speriamo di no speriamo di no ah ecco poi c'è sto gioco qua quello slitta ma che gli ultimi cinque minuti dove sta cosa stavi facendo lui ancora stanno parlando mi è tornato in mente ma hai visto Space Marine adesso l'abbiamo detto Space Marine vi avete parlato no allora voi mi avete detto cosa ho detto io e allora vi avete detto la mia posizione questa è quella questa è la vostra posizione adesso vi sto dicendo la mia posizione la vostra è la vostra l'hai vista la wake a me non mi è piaciuta però se voi parliamo della wake di nuovo però Steam Marine sono proprio tosse la terza volta gli Steam Marine sai chi sembrava Fares i nini non so se si fa dato la stessa che sale sulla Steam me lo ricordo sale sul divano sullo Space Marine che sai che sono alti 2-3 metri anche perché sono geneticamente ingegnerati quindi geneticamente sfidati vabbè e quindi dici vuoi fare un altro pezzo ma posso dire che Slyther è molto bello ma non ci giocherò mai perché ho paura da adesso c'è paura che c'è il tizio con la spada che fai i mostri a pezzi che devi aver paura mi fanno ben ricordare Forbidden Siren ho paura è un po' sì e quando mi favore il trailer di Forbidden Siren no Forbidden Siren 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 basta per ora questo alla Winger l'avevi visto? alla Winger non so se avete dato un'occhiata perché poi c'è il gioco dei bambini quello per il quale vi arrestano hai visto che animazioni? c'è quello dove e poi Dune a me a me interessa a tutti nemmeno nello scherzo l'abbiamo più ritirato fuori attenzione Mirko abbiamo parlato di Among Us VR e di Wanderlust no Tiny Tina su Wanderlust Mamma mia Tiny Tina Tiny Tina come cazzo voi non l'avete visto c'è stata una scena imbarazzante i loro due che lei è un attore che non so chi sia che presentano il trailer di Wanderlust Wanderlust e mamma mia che hanno fatto? ma io so che per quello ti danno il TSO direttamente sì 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 mamma mia hanno fatto una scenetta imbarazzante comunque e vabbè ma non abbiamo parlato di Quantic Dream che fa Guerre Stellar perché abbiamo detto non facciamo l'elenco di tutta la roba no ho detto quei due che mi interessavano abbiamo detto solo la transmissione eh che cazzo eh vabbè a Simone è interessato Quantic Dream ad Alan Wake no no allora il mio il mio trailer no 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 ecco parlaci dei tuoi Simone e non dire quelli che abbiamo già detto eh uno uno allora eh richiamo due ecco qua prima di Zuzzo prima di Zuzzo Tunic chi? Tunic 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 è l'altro per il quale ti arrestano per pedofilia l'altro è un po' sì no è sempre un po' da 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 perché si è sfidato non tu quello che non fa più Zelda è che purtroppo non farà più per i prossimi anni beh perché è sfidato infatti e quindi praticamente eh farai farai dungeon farai le cose belle che faccia non fare schifo hanno tenuto fare la come si i spiedini e uccidere sempre i stessi personaggi perché la gente è soddisfatta così e uno diceva eh mi arrampico e lui diceva vabbè ma c'era questo Zelda può saltare e anche lo scialle con cui fai i paragliding guardalo c'è c'è volpetta volpetta froccetta e questo però c'ha i dungeon c'ha le cose belle che faceva Zelda che però non la fa più e quindi qualcuno ci doveva pensare e ci hanno pensato loro quindi per me il mio trailer è questo poi chiaramente il gioco sarà una merda come volete però a vederlo a me convince sempre più no no ma sembra carino però non gli darei più di 10 euro onestamente se non gli darei più di 10 faccio mamma ecco io non lo so io non so niente la durata quanta roba c'ha ecco magari un game pass mi ingira pure e me lo gioco oppure game pass su PS5 vabbè hanno detto che lo fanno oh scusate perché non lo sai questo esce su game pass di Microsoft non lo so e se lo ricordo male e se lo vendettero eh allora non lo so poi ci pensiamo quando esce uscirà il 16 marzo se nintendo lo vuole come diceva il buon taglio feri tra l'altro sto non lo so sto trailer mi ha ricordato anche Fetz come forse l'animazione del logo il doctor dice che c'è la demo ma non ha granché prova la demo o l'hai provata e a te piace no 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 mi droga io ho ricominciato scusatemi se io ho questa cosa mia di giocare sono anche i coccodrilli comunque eh vero ah e poi ci siamo scordati di Anna Wake sì sì ma la storia del nostro amico alla stazione centrale di Milano l'hai raccontata l'altra volta è il titolo della puntata eh no infatti ma volevo sapere se ok però non l'ha raccontata però voi romani siete tutti un po' particolari voleva risentirla live ah ma era romano questo qua no 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 si muove romano ah ok questo era tipo era come Winston dei Ghostbusters ah ok esatto si si può dire Nintandaro si esatto e ho preso Stefano dicendo di quella frase che non possiamo ripetere che siamo su Twitch e quindi i tuoi amici erano tutti perché è un contenuto è un contenuto per i Patreon erano tutti e sono tutti LGBTQ plus esatto e gli ho detto ma anche io sono LGBTQ plus ma quindi Stetta ha preso da parte e ti ha detto ha messo il braccio attorno al collo e camminando i tuoi amici sono tutti così e quindi ti porto io a femmine no 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 mi ha detto era tipo una considerazione era una considerazione a voce alta esatto e io con figlio ho detto si ma anche io cioè e se ne è andato via ridendo e lui spiazzato se ne è andato via ridendo con la risata di Eddie Murphy è andato via ridendo la risata di torino a colla neanche quella di Eddie Murphy però normale cioè lui non che fa il doppiatore dalla sua io amico i miei amici sono tutti frivivi è andato via è stata una scena mistica perché boh io mi è uscito dal cuore il vestito di viola di pelle tra l'altro esatto e mi è uscito dal cuore proprio ho detto ma io non come dire questo questo cioè salgo sul carro dei free free vincitori cioè è stato proprio l'arrivo migliore di sempre sì l'arrivo migliore di sempre esatto è una cosa inaspettata ma tipo manco sei uscito dal treno da quello che era e hai incontrato lui no 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 ci siamo incontrati lì e poi ho detto vabbè adesso andiamo a bere una cosa ok vi siete incontrati lì perché avevate dato appuntamento puoi dirlo sì sì tra l'altro ce l'hanno dato appuntamento quello non c'è problema no ma con lui con il suo tipo ah no con lui Stefano io vorrei anche ricordare perché non mi ricordavo bene la battuta tra te e il cameriere sulla gallura la nonna e il vino non mi ricordo sai che dopo due bottiglie io non mi non c'era anche fosse proprio lucidissimo due bottiglie ma neanche diciamo che hai sentito hai sentito una familiarità perché hai detto io non so niente di vini però qua c'è scritto gallura quindi va bene esatto questo tizio è arrivato e mi ha detto ah ma tu tu capisci di vini e gli ho detto no io ho letto Sardegna conosco quel vino perché mia nonna è gallure sono una persona semplice lei con Sardegna mi sento a casa e con questa frase lo ha conquistato perché da lì basta è diventato il preferito del cameriere ci ha portato una pizza gratis anche tra l'altro ci ha portato le salsicce che stavamo dando al conigliastro che vegetarie è vero avevo cercato di dare la conigliastro ho detto ma togli la salsiccia che è un problema la salsiccia poi come i gatti togli esatto grazie no grazie esatto e poi anche la tizia mi diceva allora allora vermentino di gallura continuava a dirmi vermentino di gallura e io dicevo no ma posto così si sono emozionati e poi non vi ho detto che quando sono andato via io gli ho detto gli volevo dare la mancia a questi no gli volevo dare la mancia a questi gli ho detto però non c'ho euro però non gli voglio dare la mancia ma non ho i soldi no no ce le ho ce le ho elettronici o ce le ho oppure gli ho detto c'ho 20 franchi oppure una moneta da un franco e lui mi ha fatto tutto un disco i soldi elettronici i soldi elettronici i soldi con il banco Matt non i soldi con il 5G esatto si si no anche io quando pago a sui mercati ti pago quei soldi elettronici i soldi finiti sai quelli sai tutta la cosa però i soldi qui non esistono le banche ti do la carta elettronica con i soldi elettronici non ci stanno per stampare più soldi gli hai detto accettate anche con tanti digitali da voi esatto banconote digitali i sardi io volevo fare gli amici i sardex però non in cose i sesterzi quelli di Roma che saranno tra poco no però no mi ha detto mi ha fatto tutto un discorso tipo allora gli ha detto mi ha detto no no dammi una moneta da un franco gli ha detto va bene che ha detto da un sardo poi ha titillato titillerà Alessio e niente e mi ha fatto tutto il discorso sono confuso il franco sardegna oh ecco tu l'hai detto sul va bene che cazzo c'ha di strano va bene no no sul va bene i tempi comici Stefano cazzo lo sapete che io non li conosco non no era tutto una roba ma saluti il discorso adesso mi sto incasinando anche io però ragazzi mi ha detto ehi ma l'hai visto la wake si è preso la moneta da un franco che ci ha fatto no no l'ha messa via ha detto che era tipo un soldo guadagnato e un soldo risparmiato no tipo sembrava la genghina non fermarti continua a lavorarla ai fianchi che lo stiamo confondendo ma esatto la tua forza non la forza l'energia spirituale è la nostra migliore soddisfazione ma lui ti ha detto l'energia spirituale tipo metti metti qui metti qui tipo era una cosa conta l'energia lo spirito del dono una cosa ma sei sicuro che ti ha detto questa cosa ma quanto cazzo mi ha bevuto di questo vino e io non reggo il vino perché sono bevuto due bottiglie me l'hanno messa a fianco è anche un gin tonic che è buono dopo la fine di tutta la scena lui si è preso il gin tonic sì ma allora dovete sapere che io volevo continuare a bere adesso andiamo a qualche parte eh no torniamo a casa e ce ne siamo tornati tutti in hotel aveva mangiato il quantitativo del suo peso in carne del suo pene sì esatto la cucioletta la milanese che era grossa come era grossa quanto tu hai fatto il messo assieme era come una playstation 5 più o meno ma era ottio Ludo Charlie ci ha azzeccato era no e quindi boh ma io ero informissimo sulla sul cibo perché ha preso anche lei la cottoretta la milanese e ho detto allora ti sei mangiato pure la sua tipo che fa no te la mangi la finisci questo esatto la stavo per fare quando l'ho vista a ferma ho fatto ma te la mangi quella e ho detto sì ho detto ok allora ho dietreggiato purtroppo hai dietreggiato ho dietreggiato però questi vecchiaci cosa che non farete mai di cui abbiamo parlato non mi ricordo adesso e poi ne parliamo e niente quindi ragazzi se vi dico sono in forma andiamo a bere dobbiamo continuare a bere invece mi hanno cock bloccato e niente ce ne siamo ottenuti all'hotel sono svenuto da una parte però tutto è stato piacevole e niente comunque adesso lì c'è un euro con la mia forza spirituale utile per un franco o un euro scusa un franco un franco scusa un franco euro un franche euro va bene va bene allora i miei trailer comunque sono direi visto che abbiamo detto tutti una cosa io andrei verso gli extra credit e per quello che si cioè si parte e Matteo allora ho iniziato a giocare Final Fantasy VII remake sono arrivato a un certo punto a un certo punto un capitolo 9 mi sembra quando sei lì che devi liberare Tifa Matteo voglio sapere com'è sei anche abbastanza avanti è quasi finito si bellino penso sarà brutto te lo devo finire non lo so non mi sta prendendo tantissimo però tu l'hai giocato quell'originale sì ma tanto tanto tempo fa lì è tutta una sinestesia di musiche di personaggi se non l'hai giocato secondo me perdi anzi è quasi inutile giocare ti ho detto che l'hai giocato no no però anche che l'hai giocato cent'anni fa basta che si ricorda un po' le musiche i temi i personaggi basta se non l'hai giocato tante cose di quelle che succedono non me le ricordo no no vabbè non so se non me le ricordo perché non c'erano o perché non me le ricordo e basta perché non vuoi ricordarti sì comunque funziona sì è bello comunque però si vede che un po' la giapponese ha questi valori produttivi altissimi da alcune parti dall'altra parte sembrano fatti con pezzi di cartone attaccati con la colla venilica però comunque no non è che non mi piace mi piace ora guardo come finisce poi da quanto capisci anche del contenuto aggiuntivo la playstation 5 sì tutto sommato mi sta piacendo però non mi strappa i capelli dall'entusiasmo basta basta ma il contenuto aggiuntivo su ps5 qual è? è iuffi iuffi ah è quello che poi era uscito a parte diciamo li hanno riuniti assieme ok e poi se ho capito bene playstation quello che c'è sul plus è solo playstation 4 sì quello per playstation 5 lo devi comprare a parte praticamente e costa 60 no ormai lo trovi pure quello là 39 e c'è una differenza c'è una differenza sostanziale sulla grafica? va a 60 frame invece che 30 i caricamenti sono più brevi hanno rifatto tutto il sistema di illuminazione quindi sì diciamo se non ci spendi troppo sì considera che comunque solo il contenuto aggiuntivo mi sembra che costi o 19 o una cosa del genere quindi se l'hai compreso nel gioco insieme i statuaggi sono compatibili? i statuaggi? non lo so i salvataggi mi sa di sì non lo so devi però entrare mi sa nella versione ps4 trasferirli e riscaricarli su quella ps5 sì c'era una procedura incasinata ma erano compatibili ok ok a posto grazie eh Alexio e io non ho granché di extra grazie perché sto giocando molto poco ma sto facendo altre cose nel senso mi sono preso bene dopo la serie di Zero Cart Care ho detto vabbè devo recuperare la roba che non alcune hanno dato attenzione finora io leggevo le vignette sul blog poi però i libri ne avevo letti solo un paio e quindi ne ho ho iniziato a prenderne qualcuno ho letto la professione dell'armadillo un paio delle raccolte di ogni maledetto lunedì e dimentica il mio nome che è stato una mazzata tosta tosta che non mi aspettavo perché ne avevo sentito parlare ma non l'avevo mai letto in generale in generale non credo ci sia molto bisogno di parlarne anche perché è stato un po' il fenomeno dell'ultimo mese per cui lo conoscete sicuramente mi limito a dire non voglio dire niente su trame eccetera per chi non l'avesse letto straconsigliato specialmente dimentica il mio nome che è già meno sentito e più maturo per alcune cose parliamo sempre chiaramente del suo tipo di narrazione quindi anche molto meta referenziale che fa missioni di altre cose pop che conosciamo eccetera ma per raccontare una storia molto personale di come dire di origini di identità perché parte dal dalla morte della nonna per andare a raccontare poi alla fine una storia di famiglia la storia della sua famiglia ma è una storia di famiglia in generale non me l'aspettavo molto molto bello poi invece per farmi del male subito dopo ho bilanciato decidendo di vedere come finisce la casa di carta che è finito in questo periodo con l'uscita delle ultime cose tu sei un drogato veramente è più prevedibile di te sei una mina impazzita ma io avevo saltato l'ultima ma perché cinquina di episodi anche perché poi mi hanno fatto lo spoiler di come cinquina di serie avrei dovuto saltare eh fidati allora ricordiamo innanzitutto che io la casa di carta l'ho visto per colpa di Aurelio che lo consigliò su queste su queste frequenze la serie più bella dai tempi di Breaking Bad ragazzi è vero anche io ecco di chi era la colpa ed è per quello che Aurelio è sparito perché sta scontando la pena esatto anch'io dicevo guardiamoci questa che dicono che ma un sacco di gente anche di altri podcast dicevo questa è una serie wow ma perché quando uscì all'inizio non poteva fare altro che i primi episodi sono quei casi come la prima la prima te la bevi sì sì la prima e poi per me allora poi ti fermi ci ripensi e dici madonna che cagata che ho visto però è bellissimo è una cagata pazzesca ma porca puttana c'ha un ritmo e c'ha comunque il fatto che ti tiene inchiodato lì fino alla fine dai non mi puoi funzionare a Dio la prima sì poi funzionava a Dio poi dopo che è noioso perché è sempre la stessa rapina ripetuta la sopopera no io quando inizio ad essere sopopera alla seconda lì ho proprio sopopera è sopopera dal primo episodio sì ma ma non cioè sembra una roba un po' laterale dico va bene e dopo diventa anche lì all'inizio può starci anche un minimo poi diventa un puro contorno sui personaggi tipo la quinta è tutta su Berlino perché è l'unico che sa recita un minimo di tutto il caso quindi hanno detto vabbè insomma comunque tutto il flashback di Berlino quasi lo saltavo cioè è da ammazzarli ma perché è totalmente inutile per preparare lo spin off se capisce però un po' per giocarsi la carta di E mi vuoi dire è da ammazzarli comunque come l'hanno fatto quel collegamento sì no allucinavo no no ma non sta in piedi niente un finale a parte che non sta in piedi è buttato nel cesso proprio ma scusa poi però il pezzo in cui loro questo per dire senza spoiler che mi ha fatto cagare come è finito ma no alla fine è tremenda però il momento in cui loro scappano dalla polizia facendo un buco in un bidone dell'immondizia entrandoci dentro e si vede la scena con i piedini di fuori che camminano tipo Snake di Metal Gear io riso come non mi capitava veramente da anni perché non è possibile ma non solo non solo c'è i piedini di Metal Gear ma c'è la musica di Metal Gear a un certo punto parte una canzone di Metal Gear Solid 3 e io ho detto che cazzo sto perdendo cosa è successo eh vabbè ragazzi è un delirio pazzesco però è divertente secondo me sì 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 e quindi intrattiene intrattiene ho visto le ultime dieci puntate in una maratona sabato eh violentissima eh è una merda è veramente una merda quindi eh vorrei risparmiare questo dolore a qualcuno ricordatevi per favore che la casa di carta è solo la prima eh e tutto il resto come i seguiti di Guerre Stellari non esiste quindi evitateli tranquillamente poi sto continuando a vedere Cowboy Bebop live action e e il mio sforzo ha fatto sì che venisse annullato perché sapete che quando io guardo una riserva ma sai che non è male ma anche io l'ho finito pure io quello è un altro eh quello è un altro ma c'era eh ascolta hai chiesto a Simone se lui è un progetto interessante mi sembra di averlo detto eh però questo è un progetto in te po spiegate un attimo gli ascoltatori perché sta cosa è uscita avrà detto un tizio in stazione a Milano no no è uscita in stazione ero io però il tizio era Stefano che ha osservato questa cosa con questo talento di Simone commentare qualche novità e portargli una sfiga pazzesca ma no sono solitamente cose di merda che però Simone dice che sono interessanti e io gli dico guarda che fa cagare questa roba qui cioè non va da nessuna parte però è un progetto interessante fin sparito comunque secondo me sta cosa è fallita perché hanno scelto lui che proprio mamma mi c'è una faccia no perché guarda te ne ha puntata subito perché è fallito sì ma lui c'ha una faccia quanti anni c'ha lui c'ha 50 anni 60 50 anni cioè loro un po' se ne approfittano di sta cosa che non si è più scelta la parte non ci stanno manco male sì ma non si può vedere finché non aprono bocca finché non aprono bocca non parlano e di ti accorgi che boh è tutto un mistero su come faccia abbiano fatto a fare questa serie ma maestro secondo me il problema vero qual è sono a 5 episodi su 10 per cui non l'ho vista tutta però probabilmente questo rimarrà fino alla fine no al finale è che è troppo ok è che è troppo straniante sta cosa che loro veramente stanno recitando un anime cioè effettivamente è letteralmente un live action perché stanno facendo le stesse cose del linguaggio dell'anime però tu lo vedi fatto da attori veri su set più o meno veri eccetera ed è troppo straniante perché non funziona perfetto tu lo fai eh il cinema sta cosa ti preoccupa non si è sentito non si è capito niente sono 20 anni che li guardi al cinema eh eh no però è proprio la resa che faccio no è proprio diverso perché questo è quel tentativo di fare il cartone animato con gli attori cioè non è un film preso da fumetti preso dai libri è proprio un cartone animato fatto con gli attori e poi fidati guardalo è una sensazione completamente diversa e boh è quel è quel imbarazzo che boh funziona pure però è sempre imbarazzante da guardare cioè tutto il tempo tu dici che cazzo sto vedendo cioè hai questo straniamento totale che poi appunto è straniante perché secondo me lo spirito della serie in realtà l'hanno azzeccato l'hanno beccato il mix funziona poi fa cagare per altre però funziona nel prendere lo spirito dell'anime e raccontarlo infatti io temevo il peggio tantissimo anche perché sono molto affezionato all'anime originale però non era del tutto sbagliato è solo che secondo me hanno cannato completamente il peso drammatico diciamo di vicious di di Giulia cioè i vari comprimari lui è terrificante a parte che c'ha una testa che non c'entra dentro l'inquadratura devono fare un grand'angolo solo per la testa e non so è gigantesca è una cosa che me me crea e ma sempre perché hanno cercato sempre secondo me perché hanno cercato di fare con gli attori veri il look dell'anime ma tu non puoi fare quella roba là è come immaginatevi Final Fantasy 7 prendete Sephiroth adesso lo facciamo fare un attore vero come cazzo fai a immaginare un attore con quel look che debba sembrare spaventoso e minaccioso con una spada che è più alta di lui è ovvio che non avrebbe nessun senso fatto nella realtà e questi hanno fatto quell'effetto lì hanno cercato proprio di farli paro paro sono molto perché vorrei una spada più alta di me no Ale secondo me devi scegliere l'attore giusto che ti restituisca quella cosa cioè qua lui per carità però pare che sta fare un cinquantenne che sta facendo il cosplayer di Cowboy quella sensazione lì è fortissima guarda nel fermo Bruno guarda nel fermo immagine che hai messo te guarda lì due bancali con le ruote un barile cioè proprio una scenografia fatta con oh che c'è lì nel magazzino di posa dai prendi metti lì e giriamo vai guarda che scena cioè dimmi se non c'è proprio il feeling la qualità delle luci eccetera è una roba che fai te col cellulare con gli amici tuoi guarda il vestito di Jet però io vi dico che il fattore si ma poi c'è un certo punto che è bruttissimo che ci ho fatto cioè fai caso a delle robe che sono super approssimative c'è Jet che sta fermo e c'è la spallina che te ti aspetti che no segue la spalla giustamente che è tutta piegata e sta qui in alto che io lo guardavo con la patata e dico ma lì l'hanno cucita male sta roba cioè era una cosa ma non è possibile vedi questa cosa qui oppure c'è un certo punto che li legano e te vedrai che vengono legati e ti dici nel futuro tutto con vengono legati con la corda sai quella la cima per legare le barche quelle gigantesche grosse con sta corda legate intorno ma ti dici ma porca puttana ma non è possibile io però l'effetto età per esempio sull'attore che fa no ma anche secondo me gli attori io non glieli davo 50 anni a guardarlo nella serie per dirti io ho detto anche che secondo me che era uno dei dubbi ci sta nella parte però fa molto il doppiaggio italiano secondo me che è fatto molto bene secondo me quello che ha detto Simone che Alessio sono 50 anni che si vede i film Marvel i film Marvel comunque per quanto a me facciano cacare però hanno il pregio di aver saputo inventare un'estetica che ti rende credibili i supereroi quindi non ti dà quell'effetto straniante di quello là che sta facendo i cosplay del supereroi cioè ti dà quella è la potenza dei soldi sì la potenza dei soldi di scegliere gli attori giusti di 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 pomparli di steroidi per fargli fare il fisico giusto hai detto anche ha detto bene anche Ale è che il materiale d'origine essendo un fumetto te non c'hai l'annagra mentre il vedello è un cartone animato comunque dove è soprattutto un cartone animato fatto molto bene dove la recitazione dei personaggi è importante c'è certi tipi di inquadrature danno una caratterizzazione grossissima e vedelli un po' così appiattiti in sta maniera fanno effetto che è brutto 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 vabbè quindi una merda insomma sì però secondo me è da ascoltare perfetto vabbè un audioviso un originale televisivo del primo canale che cosa è un'audioserie Mirko allora io ho visto il remake di Mamma ha perso l'aereo su Disney Plus e nonostante ci avessi del proprio dei pregiudizi no incredibili di più di più diciamo che alla fine l'ho visto con Viola o se l'hai visto sì sì l'ho visto con Viola l'abbiamo visto con Viola film natalizio guardiamoci ieri pomeriggio abbiamo detto dai guardiamoci un film natalizio e allora il film ha dei grossi problemi che è lento quanto la merda nella parte iniziale ma veramente veramente tanto e la famiglia è totalmente inesistente nel film ma proprio il fatto che la madre non si veda praticamente per più di due minuti non ti fa senti manco che questi si preoccupano più di tanto la cosa che secondo me non è male è che c'è una certa scrittura delle battute che in alcuni casi non è manco malaccio e c'è una riscrittura per cui i ladri che sono veramente terribili nel senso che non ci hanno per niente carisma o altro però alla fine funzionano perché loro sono i buoni della storia qui hanno fatto sto ribaltamento per cui il bambino per un'incomprensione ovviamente diventa il cattivo e non è male perché si convince che loro sono dei pedofili che lo vogliono rapire e vendere perché è il figlio di gente ricca e a me sta cosa cioè tutto sommato come scrittura non è totalmente idiota alla fine poi la sequenza nella casa è una di quelle robe che te la puoi rigirare cento volte in cento maniere diverse e funziona comunque perché è divertente la parte in cui loro cercano da salire a casa e vede come si difende lui non è male e c'è molto buonismo soprattutto in chiusura però devo dire secondo me è brutto perché è brutto non è un bel film però torniamo lì visto con una ragazzina di otto anni non è non è così inguardabile come aspettava non è quella cosa che diventa irritante ecco la scelta del bambino totalmente sbagliata non c'entra proprio niente gli attori uguali sono tutti sbagliati dal primo all'ultimo però dura un'ora e venti e non è noioso comunque a parte un po' l'inizio che veramente ci mette un po' troppo a ingranare e si capisce chiaramente chi ha visto film lo sa già dove va a parare però c'è sto leggero ribaltamento che non è brutto brutto maestro una domanda importante vai vai ma visto senza essere papà di una bambina di otto anni è una cosa che guarderesti o è solo una roba da guardare allora siccome me sei attratto come le mosche dalla merda io c'ho sto dubbio cioè sì sì cioè non è necessario no ti rimane qualcosa del film no però manco manco me sto sentito irritato come tante altre volte in cui ho guardato roba che ho detto mamma mia porca puttana potevo veramente cioè mettiamo sulla bilancia un'ora e mezza di remake di mamma perso l'aereo e dieci ore di episodi della casa di carta ma io non so la persona giusta visto che ho visto entrambi quindi ti direi se ti sei visto appunto dieci ore della casa di carta poi dedica un'ora a questo però non lo metterai in cima una lista se hai altra roba da vedere se lo vogliamo vedere in goliardia a Natale sì ma non è che no perché secondo me la parte goliardica non è così tanto esasperata da dire cioè non è un film che ti suscita appunto dici mamma mia come cazzo si fa fa sta roba per cui sai comincia proprio a fare il giro lo guardi dici boh è un filmetto fine non è manco irrispettoso dell'originale o da strapassi i capelli perché dici oddio cosa hanno fatto ma compai McCauley c'è c'è un sì c'è un collegamento con il coso perché fa vedere il il cugino quello lì che ha quello che c'aveva la tarantola certo ma è vero che le francesi d'estate si raddano la cosina eh non c'è ci so qualche battuta un po' al limite ma non non si arriva mai comunque a certi doppi sensi o a certe robe del vecchio però io direi se devi vedere cinque puntate di Okai e il piccione d'inverno guardate questo secondo me è meglio adesso non esageriamo però e poi mi sono visto Hellbound che allora a me mi piace l'idea per cui in Italia dicevi cosa abbiamo dei fondi possiamo fare una serie cosa facciamo ma facciamo un prete che indaga in Umbria su delle uccisioni e ogni puntata c'è un'uccisione nuova vabbè mentre in Corea dicono beh facciamo che a un certo punto arrivano dei mostri dall'inferno e condannano la gente cioè così è proprio per capire il cinema come viene prodotto e visto diversamente da una parte all'altra e mascheriamo discorsi filosofici con una serie tv ma cioè perché il discorso è tutto meta non c'è sì sì vabbè il discorso è molto bello per me la trama di fondo le premesse sono molto belle cioè il concetto perché della gente tu pensa fatto dalla Marvel questa cosa no non può essere fatto dalla Marvel no 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 ma infatti a me piace perché si capisce come proprio nella parte orientale del paese del mondo siano veramente costantemente in dubbio con loro stessi stiano continuamente a porsi dei dubbi morali e ci sia una domanda di fondo molto forte cioè se te da un giorno all'altro sapessi che sei condannato all'inferno e ti rendi conto che hai fatto qualcosa non hai fatto qualcosa cosa succede come la vivresti sta cosa è bellissimo ma pensa anche all'utilizzo del genere che l'occidente non fa più per parlare di altre tematiche che è quello che fanno loro che hanno fatto con Parasite che fanno con questo scusate ma quindi la trama qual è sconosti mostri la trama è che Bruno all'improvviso da un giorno all'altro delle persone sulla terra vengono condannate cioè tappare un mostro che ti dice Bruno tra xx giorni e tott'ore verrai condannato all'inferno arriva il momento tipo Scream no? sette giorni dopo sette giorni arrivano quei tre gorilloni però può essere sette giorni come può essere vent'anni quattro anni totalmente x la durata e quindi dopo un po' appaiono sti gorilloni che ti riempono demazzate ti fanno un'onda camea mea e ti brucia all'inferno fine se sei già morto perché ti sei suicidato addirittura uccidono il tuo fantasma così proprio vabbè è una roba che non bisogna farsi più domande ed è tanto e l'idea è bella il problema secondo me che è trattato molto male è basato su un fumetto leggo sì no è da un webtoon addirittura manco un fumetto e quello che non funziona secondo me è che è una questione talmente grossa che ci avrebbe delle implicazioni talmente profonde in tutto l'universo per tutta la razza umana che invece viene trattata in una maniera un po' troppo limitata e circoscritta e alla fine io avevo proprio la sensazione ma il punto è che sai che devi morire quindi che ne so cerchi di di cambiare oppure è bravo Bruno è giocato su un'indagine poi sul fatto che ci sta il poliziotto con la storia quello è stereotipo però riutilizzato per quello però mancano però mancano completamente una serie di domande morali e umane che ti dovresti fare scusate quello che volevo dire è la tipica cosa tipo dei film apocalittici che dice so che devo morire tra che ne so sta arrivando il meteorito e quindi come spendiamo il resto del tempo no 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 assolutamente no infatti infatti Bruno quello che a me non ha per niente convinto è che manca proprio la parte di oddio so che sono condannato come reagisco ma il mondo non si domanda quali sono i criteri di condanna cioè cosa hai fatto cos'è e infatti si chiude in quella roba molto molto giapponese molto più che giapponese questo è coreano però c'è la setta che crea una nuova chiesa per cui tutti credono alle regole che è detta questa chiesa e allora però tutto accettato come se fosse una roba tranquilla in america in america è la stessa cosa eh no capito ma qui non viene mai detto come viene nel mondo vista sta cosa non c'è mai un'uscita da seul cioè è tutto lì chiuso tra questi dieci personaggi poi ti sei arrivato a che puntata sei arrivato Simo la quarta quindi quando c'è il salto temporale se non mi sbaglio giusto no c'è c'è guarda c'è l'orfano troppio ok vabbè dopo un po' ci sarà anche un salto temporale non è niente di cosa e lì vedi come so cambiate le cose ed è proprio un po' delicatino e c'è molto c'è molto molto secondo me io quando scrivevo sul gruppo che è Death Note con i Gorilla non è che intendevo è perché comunque la meccanica alla base è quella lì c'è della gente che deve morire e c'è molto quel discorso appunto dell'indagine del capì chi muore cosa sta succedendo del non farlo scoprire perché la setta l'userà i suoi fini invece però potevano spingere molto molto di più ma molto molto di più su proprio una serie di domande che sono inevitabili poi vedrai andando avanti diventano ancora più grosse queste questioni e invece vengono tratteggiate proprio così con una chiusura che secondo me è anche un po' deboluccia cioè c'è anche lì c'è un'idea molto forte chiusa in una maniera che boh vabbè dovevamo farlo finire in una maniera e l'abbiamo fatto finire peccato peccato perché l'idea è eccezionale però non non vanno più di tanto ok però se secondo me sei puntato e si guardano perché non è che sì e faccio un faccio un extra creditio che poi vi vi saludio e a che penso che posso allora episodio 1 sì esatto sto rifacendo la sto rifacendo la la visione di dei guerre stellari però sì per rivederla però in ordine di di numero ma non so quanto continuerà perché ieri ho visto episodio 1 ragazzi cioè un'ora di film è una merda che non ha una cosa io non me lo ricordavo l'ho vista al cinema ma è una roba imbarazzante ci stanno le fantastiche avventure di Quai Gugine e il suo migliore amico che vanno in giro con Pippo perché quello è una specie di Pippo che poi si va a Marley non lo so che sarebbe Quai Gugine si Pippo Marley e che gli combine i guai come gli Hobbit quindi non fare questo e lui fa questo quelle cose così e e per cioè tu dici ma ora succederà qualcosa no in un'ora di film cioè la prima ora di film è basata su loro che praticamente devono cercare di tornare dal pianeta e salvare questa cazzo di principessa ma in verità vanno a parlare con l'omini pesce vanno a parlare con l'uomo apetta vanno la parte all'inizio parlano col principe che non si sa di che cosa di sto cazzo c'è sta il principe e e loro sono insomma l'avete visto penso tutti sono ospitati da dal principe che praticamente è tipo pagato dai dai sit per per rompere il cazzo alla principessa però della parte importante e divertente non c'è niente ci stanno solo delle gag tristissime veramente con Jar Jar con quello con il re di Jar Jar che parla che fa tutti i rumori così che sembra c'è i tic io non lo so come hanno fatto a farlo uscire e poi la seconda parte che è una una battaglia che c'ha un po' più di senso però basta poi tutti stanno a dire che sto ragazzino non deve essere eseguito ma lui continua a insistere per per addestrarlo cioè una cosa ma io probabilmente ero piccolo mi ricordo solo che non mi piacque ma voi vi ricordate commenti cose perché veramente far uscire niente pensa che secondo me il secondo è pure peggio sì il secondo è peggio è molto altrimenti è peggio che salva forse qualche pezzo del terzo ma il primo io lo vedi al cinema il primo dai sono due robe secondo me il primo la cosa di Sgush la 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 vista il cinema c'aveva il suo perché anche la battaglia finale di Darth Maul per il resto sì gente che gira in tondo non ricordo niente secondo me c'è da riconoscere una cosa che rispetto ai nuovi hanno fatto un lavoro cioè hanno veramente inventato tutto tutto ci sono le truppe ci sono è pieno di roba dal punto di vista proprio della roba che c'è no no io l'ho rivisto guarda l'ho rivisto ho fatto anche una maratona anni fa e c'avevo il vomito quando stavo finito cioè ci stanno i robot stupidini che per disegno io non ti dico che è bella quella roba cioè non ti dico che è bella per quello che fa in scena però sono tre film pieni di roba nuova 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 se ti guardi la trilogia l'ultima che hanno fatto più derimette l'X-Wing noi gli facciamo la rossa ma gliela facciamo blu e basta così non tocchiamo niente manco se sono impegnati dal punto di vista di cercare di fare qualcosa mentre lì è pieno 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 di robe dall'inizio alla fine assolutamente però il primo film è veramente indecente ma poi le chiacchiere le chiacchiere perché la corporazione dei mercanti ha fatto lo sconto del 20% ha fatto lo scorporazione dell'IVA io l'ho rivisto immediatamente dopo ed è esattamente hanno colto esattamente il punto i Simpson quando hanno fatto quella scenetta che arriva la T a T e si mette gli occhiali e legge la sua mozione una cosa veramente imbarazzata con Palpatine che si capisce dopo un secondo pure se uno si capisce dopo un secondo che sta tramando no veramente e poi ci aveva sì e poi ragazzi questo io lo dico sempre la computer grafica non va usata va usata proprio come Fincher cioè per fare delle cose che però sono che si capiscono non si capiscono che come il T-Rex di Jurassic World no su questo non sono d'accordo eh io guarda se tu lo riguardi adesso no è invecchiato male in sacco di punti sì assolutamente però ragazzi ancora quello era cinema che inventava tecniche che provava a far roba non è torniamo lì i film Marvel che usiamo gli effetti speciali stock perché sia mai prova a far qualcosa di nuovo no no per carità la creatività no originalità no ah facciamo la città che gira sì però copiamola da Nolan che lui l'ha fatta bene per carità fa qualcosa di nuovo no quello assolutamente però qui si vede proprio l'unica cosa che regge sono i metalli perché hanno quella riflettenza che i metalli che stanno di tutto grafica tutti no però quella cosa funziona il resto per fortuna ancora si usava animatronica ancora si usava abbastanza il insomma l'effetto speciale diciamo proprio fisico esatto quindi forse non ricordi che nell'originale Yoda era fatto metà pupazzone metà digitale e il pupazzo era più brutto di quello dell'impero colpisce ancora non si sa come ci sono riusciti ma è successo ma parli di episodio 1 la minaccia fantasma è stato ritoccato in seguito sì infatti si vedono sullo sfondo gente che cammina che non c'entrava niente i mostroni in mezzo assolutamente sì infatti mi domandavo quale versione fosse poi mi è stato chiaro perché poi sta cosa che Lucas non si è mai digitale o no no una cosa una cosa digitale poi ci stanno gli altri pupazzi che si muovono i primi il principe quando parla c'è il collo che si muove proprio tipico da plastica quindi c'ha queste robe qua ma il primo cioè il primo dialogo è ho brutto prosentimento così quelli entrano dentro la cosa del principe e c'è quello che fa ho brutto prosentimento ma non pensi di avere un brutto prosentimento sì sì una roba poi partono quei miti gloria quella roba sì dopo è un delirio senza fine sì poi sta figura cristologica di Anakin che lei ha detto io sono solo rimasto in città non ho fatto niente e quello dice come cosa eh e poi sì c'è un distacco enorme che è proprio quello è stato Lucas che ha detto vabbè dobbiamo fare la parte finale come come i vecchi e quindi addirittura non solo Darth Maul arriva e arriva nella in una zona che diciamo è una zona come posso dire è civile a un certo punto non so se vi ricordate che c'è quella scena imbarazzata con le porte che si chiudono e s'aprono tipo che quando rimani incastrato in quelle degli hotel stanno fermi e a un certo punto riparte il combattimento però è coreografata da Dio perché è coreografata da Dio è girata meglio perché quella parte è girata meglio musicona dai non è due l'offense è quello non mi ricordo come si chiama il signor Giovanni Guglielmi lì era proprio informissima porca troia quel tema è devastante quindi quella scena è se dobbiamo ringraziare qualcosa ringraziamo per quella scena perché tutto il film vale quella scena sì perché rivederla dopo anni è di Cristo perché ci sono gli attori però tu ti rendi conto che quel film lì te li ricordi di continuo le scene per quanto brutte o comunque magari insulse è un susseguirsi di scene dei momenti che te li ricordi a distanza di anni perché io veramente me li ricordo quasi tutti sti film e c'è roba che ho visto ieri che non mi ricordo un minuto manco ma quello sì se te li vedi solo audio però non li vedo con le orecchie è un misto di problemi cioè di fattori di problemi e uno è che volenti o nolenti è una roba secondo me che la maggior parte di noi ce l'ha in testa come non dico reale però come memoria di massa come ti posso dire quindi quando c'è il gelio la spalla laser cioè è roba talmente iconica che in qualche maniera io pure guardando i pezzi del film mi ricordavo quasi tutto è capito però vuol dire che in qualche maniera ti è rimasta dentro cioè almeno da un aspetto ma pure tirati su la banana col bacio no è bene ci sono quei livelli di superare il la superficie che può essere o la media che può essere una cosa in bene in male questo film ha la prima parte che è imbarazzante perché è proprio mandiamo le famiglie al cinema a Natale e facciamo ridere i bambini con quello che casca con le cose slapstick brutte e poi le modifiche in digitale che si vedono quasi palesi cioè lì mettici il pastorello lì mettici cioè veramente fatto con questi che camminano nel nulla cioè ci stanno proprio degli errori a cazzo proprio stupidi perché Lucas non si sapeva tenere le mani in tasca però quella parte lì quella scena lì così non esiste altra cioè nel senso è una delle è la classica sai che a me di quella scena piace proprio la parte con le porte che si chiudono no ma non ho detto che è brutta per me il momento più iconico è proprio quando si chiude la porta è bello quel momento quello si mette a meditare e quell'altro invece scappa da pisciare va avanti e indietro esatto io non ho detto che è brutta ho detto che si sono inventati quella per farli spostare nell'ambiente forse non ho finito la frase per farli spostare nell'ambiente come nell'episodio 4 che c'ha la parte sotto ha visto com'è che c'è il ponte e lui deve cadere lì perché come gli altri si concludevano così però si sono inventati quella cosa con le porte che veramente dici vai perché si stanno a spostare poi ti rendi conto che si spostano perché perché deve finire là come era finito con gli altri specialmente quello con la battaglia iconica di io sono tuo padre quindi insomma due contro uno i Gedi ma lui era così forte eh sì però i Gedi che cazzo non c'hanno l'onore degli Space Marine no assolutamente no infatti sono comunistaggio e vabbè quindi filmaccio poi per la serie filmacci ne farò qualcun altro ma nel frattempo vi saluto lascio la palla a Bruno e lascio anche la conclusione a Bruno e ci sentiamo la prossima settimana a noi ciao ragazzi ciao 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 vabbè chi rimane Fabio tu sì ciao 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 oh simpatico Simone però è pesante grazie per esserti ricordato di me esatto ve l'ho detto che a Milano si è dimenticato non si ricordava come mi chiamavo si dimenticava di me era imbarazzante ragazzi vabbè lasciamo stare va vabbè fuori da Roma l'aria strana nessuno perdona eh sono un po' è un po' tardi sono un po' stanco quindi sarò molto breve e sto giocando Far Cry 6 l'hanno prestato e non sono assolutamente un fan della saga credo di aver finito solo il terzo anche se poi gli altri li ho giocati più o meno tutti più che più meno perché veramente sono giochi in cui dopo 5-6 ore non riesco a trovare nient'altro che mi stimoli da fare questo mi sta durando un pochino di più mi piace di più per alcune cose l'ambientazione secondo me è più azzeccata anche l'idea di ispirarsi alla rivoluzione cubana secondo me è figa è azzeccata mi fa ride insomma che prima dell'uscita del gioco avessero detto che non sarebbe stato assolutamente un gioco politico e poi un secondo dopo vai in giro a chiamare i soldati fascisti e c'è una missione che la giochi tutta con bella ciao in sottofondo come sulla casa di carta esatto per me va benissimo sono contentissimo però cazzo come si fa a dire che non è un gioco politico vabbè non lo fanno per evitare le polemiche e tutto quanto si si chiaro però insomma è comunque un gioco ispirato alla rivoluzione cubana non può non essere un gioco politico mi piace anche il fatto che per una volta il protagonista o la protagonista io sto giocando con la con la ragazza e sia un abitante del posto e non il solito americano che si trova per caso in tibet e deve combattere i tibetani infami invece qui sei comunque una nata e cresciuta lì e qui sei del posto cambia un po' tutto ecco tra l'altro il tibetano era l'unico che era effettivamente tibetano quello del quarto anche se poi era cresciuto negli Stati Uniti se non ricordo male e il generale lì Castiglio come si chiama lui l'attore quello del Breaking Bad esposito se vede dieci minuti all'inizio e poi sparisce quindi forse non l'hanno pagato abbastanza immagino poi tornerà nel finale non so se lo finirò perché ha sempre questo grande problema che secondo me la mappa non ha abbastanza personalità ed è immensa quindi veramente gli spostamenti è un po' come Assassin's Creed gli spostamenti diventano un ostacolo tra una missione e l'altra non ti hai voglia di esplorarla non ti hai voglia di scoprirla perché veramente non c'ha una sua personalità fatta e finita non ti offre nulla che non sia semplicemente il la 146esima foresta il 364esimo villaggetto il 2000esimo posto di blocco e quindi essenzialmente io prendo un mezzo e corro fino a la missione successiva però devo dire che alla lunga un po' te l'opera sta cosa perché poi le missioni sono fatte anche benino il gameplay è divertente quindi sparare funziona è divertente però sicuramente è quello tra gli ultimi Far Cry è quello che mi è piaciuto però da qui a finirlo forse è un po' troppo anche perché poi la mappa come al solito è immensa veramente gigantesca senza nessun minimo senso del perché debba essere così grande la mappa e credo che ci sia tanto tanto contenuto forse non così sempre cioè in realtà non è vero che non è di qualità perché poi la singola missione è quasi sempre bellina il problema è che poi è lungo arrivarci è lungo andare in giro nella mappa in mezzo tra una missione e l'altra trovi 3000 cose che te frenano quindi forse in un futuro è una serie che gioverebbe di un po' più di linearità penso va bene sono rimasto io io vi consiglio un anime oltre ovviamente a riconsigliarvi il primo space marine così capirete perché dobbiamo tutti aspettare il ritorno del re del con il seguito vi consiglio un anime che si chiama one guy muscol muscol come muscoli che in realtà è un attimo che ci ho qua segnato il titolo porca puttana il titolo completo è how heavy are the dumbbells you lift quanto sono pesanti i manubri che che sollevi è praticamente un anime di quelli educativi diciamo un po' stile quello qual'era quello del che era tipo esploriamo il corpo umano però anime si ho capito ma il nome è proprio zero e quindi insomma c'è la trama è che ci sono ovviamente queste studentesse del liceo che cominciano ad andare in palestra e trovano questo istruttore che quando c'è la tutta sembra normale quando se la toglie è muscolosissimo e c'è la testa piccola se è il set work grazie a doctor come sempre è grande doctor e e quindi niente e gli episodi sono tutti così ogni episodio fanno un esercizio diverso imparano un esercizio diverso e alla fine dell'episodio c'è anche il momento facciamo insieme gli esercizi con loro che contano Ich Ni San e in teoria credo che siano proprio delle robe fatte per farle tu insieme a loro diciamo e carino divertente soprattutto perché insomma fa vedere tutte tutte le robe del bodybuilding diciamo se vi piacciono i filmati dei bodybuilder che metto che mettevo ogni tanto durante le dirette vi piacerà anche quest'anime perché ha quella cosa degli anime che prendono tutto super esagerato super drammatico però applicato al bodybuilding senza non è uno spokon un anime sportivo con i protagonisti che devono vincere devono impegnare cioè è una roba proprio leggera leggera ripeto come self at work mezzo educativo per quanto possa essere educativo un anime sul culturismo che però per esempio parla anche di dieta però tutto in stile anime quindi leggero divertente ovviamente le protagonisti sono tutte ragazze a parte questo istruttore quindi c'è anche tanto fanservice che per qualcuno potrebbe essere un plus per qualcuno potrebbe essere un plus per qualcun altro un minus però c'è anche quello e niente how heavy are the dumbbells you lift oppure più semplicemente one guy muscol ve lo consiglio molto molto easy molto leggero molto divertente detto ciò chiudiamo questa era stata la puntata numero 471 471 di free playing di bruna vera come c'è stato simone cognome che se ne è andato prima perché teneva da fare Mirko ciao ragazzi ciao a tutti ciao Mirko e Matteo ciao ciao Matteo Fabio ciao Fabio Alessio ciao e Biggio ciao Bruno grazie per essere qui ciao Biggio ci vediamo la prossima settimana vi ricordo come sempre supportateci su Patreon www.patreon.freepin.it paypal.freepin.it su Patreon se mettete almeno 3 euro ci stanno se mettete 1 euro ci stanno le puntate in anteprima il giorno dopo la diretta e se mettete più di 3 euro 3 euro o più ci sono anche gli extra credits presi dal canale vocale che in formato podcast per la massima comodità possibile e niente troviamo qualcuno a cui fare il ride e poi se ci stiamo diciamo di su Discord se no no un po' allora c'è Keno Bisboc andiamo da Keno Bisboc si ma si o andiamo da Sabaku 1 su Torima no ma no sei sicuro non andiamo da Michele su Sabaku over the world no diciamo che se devo scegliere preferisco c'è Anime Click con un botto di gente eh sì però mi piace sto finto Dario Mocha ho visto che c'è Dario Mocha Twitch ah un botto di gente nel senso un botto di ospiti chi c'è c'è Martina Marta beh c'è ad esempio Alessandro che cazzo è sta gente non lo so vabbè ho un'idea di chi siano gente dell'ambiente no andiamo da Keno Bisboc perché dopo tanto Space Marine ci pare un super comunista quindi ragazzi salutate il nostro amico che poi non c'è Keno Bisboc c'è un altro chi è stato questo barbone è quello che non ho capito da dove è uscito però esiste sì aspetta come si chiama non lo so vabbè salutate l'amico di Keno Bisboc e ci vediamo la prossima settimana tanto con tutti quanti ciao 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 ride now stop pre streaming ciao